In questo caso non è lo sportello legale ma è l'associazione attraverso i suoi avvocati ci costituiamo proprio come se fossimo una persona offesa. Vi ho fatto questo breve quadro per capire che cosa faccio e che cosa facciamo appunto come sportello, servizio dell'associazione e sono qua stasera con un fardello sono a spiegarvi la normativa, la legge che disciplina il famoso fenomeno del randagismo allora ovviamente per fortuna è un incontro aperto a tutti quindi non utilizzerò dei termini noiosi io dico sempre non uso un linguaggio legalese, cerco dei numeri ve li ho riportati nelle slide perché un minimo di professionalità ci vuole però siamo qua per capire i concetti, cosa prevede la legge e poi dopo seguirà il mio collega bravissimo Alessandro Piacenza che ribalterà tutto quello che io vi sto dicendo cioè la legge è bella però la realtà è un po' diversa. Allora partiamo subito al primo argomento. Qual è la fonte principale della normativa proprio riguardo al fenomeno del randagismo? È una legge quadro degli anni 90, legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo in realtà io la chiamo, cioè noi del settore la chiamiamo legge tutela quattro zampe perché questo? Perché andremo a vedere che comunque contiene dei principi molto importanti per la tutela degli animali da affezione e la cosa, diciamo il primo principio più importante scusate perché io ho dei problemi tecnici, adesso voglio vedere se voi vedete ciò che vedo io ok, ci siamo, ci siamo grazie, ma non compariva perché mi hanno fatto le slide troppo tecniche probabilmente non sono capace di usarle allora dicevamo cosa contiene questa legge quadro, quindi questa legge nazionale tre principi che io vi ho sintetizzato e che ci interessano per quanto riguarda i cani perché poi in realtà disciplina anche il fenomeno dei gatti, quindi delle colonie feline allora il primo è il divieto di soppressione di cani, vabbè anche gatti randaggi salvo il caso di grave malattia incurabile o comprovata pericolosità ad opera del veterinario mediante eutanasia allora questo è un principio cardine di questa legge perché in realtà ci sono paesi vicino a noi molto belli, che può essere la Spagna, anche la Croazia, la Slovenia dove gli animali, i cani, i gatti non reclamati randaggi purtroppo dopo un certo termine che vengono custoditi nei rifugi, vengono soppressi quindi mentre da noi la legge almeno prevede che non possono essere soppressi in altri paesi a noi molto vicini è normale e questo è stato un grandissimo traguardo negli anni 90 perché comunque sia, poi come racconterà il mio collega Alessandro i volontari di allora, nel lontano 1990 scherzo, andavano comunque a gare i canili e si trovavano a dover scegliere davvero chi poter salvare o meno dalla morte adesso, secondo almeno la normativa non è così salvo che cosa, eventualmente, cioè quando un animale vandaggio, un cane o un gatto può essere soppresso, quando ci sia una accertata pericolosità chiaramente non siamo noi a doverlo decidere ma sono delle persone specializzate, dei veterinari e quando sia gravemente incurabile a questo proposito tengo a sottolineare che esistono purtroppo dei precedenti negativi in tal senso, per esempio il tribunale dell'Aquila ha condannato due veterinari pubblici una condanna che è stata confermata in Cassazione nel 2013 un dirigente dell'Asle e un suo funzionario perché avevano deciso di abbattere, insomma, con l'eutanasia sulle termine abbattimento, comunque, appunto, di cagionare la morte a nove cuccioli tutti sani probabilmente, ha detto loro nell'istruttore processuale perché comunque non c'era posto in canile non si sapeva dove poter piazzare questi cuccioli non c'erano adozioni e quindi hanno, tra virgolette, ben pensato di provvedere in tal senso i giudici hanno detto no, assolutamente perché c'è una legge nazionale che comunque, tra l'altro, anche in campo penale che proprio dispone di vieto di uccisione di animali domestici quando, appunto, non siano, ripeto, o pericolosi o incurabili e nel caso dei cuccioli gli stessi erano assolutamente sali si poteva provvedere con lo spostamento in un altro rifugio con le adozioni insomma, in qualche modo si poteva fare ma non sicuramente con l'eutanasia quindi per farvi capire che ci sono purtroppo anche dei precedenti in tal senso secondo principio cardine di questa legge nazionale il controllo e limitazione delle nascite dei cani anche dei gatti, tra parentesi presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali mediante la sterilizzazione questo è un argomento che potremmo rimanere qua tutta la notte cosa che ovviamente non possiamo fare, però che cosa prevede la legge e che cosa dovrebbe essere fatto? tutti gli animali, i cani e i gatti, randaggi, vengono comunque, devono essere sottoposti a sterilizzazione proprio per evitare che si vada avanti il fenomeno del randagismo e quindi come possa essere una colonia ferida magari che da 10 gatti diventi 40 nel giro di poco tempo stesso identico ragionamento va fatto per i cani e l'altro elemento, diciamo, molto importante di questa normativa è l'inserimento del microchip quindi l'identificazione del cane in questo caso attraverso sempre il veterinario che chiaramente ne è autorizzato il cane in questo modo, quattro zampe, viene, ripeto, identificato a una sorta di carta di identità viene custodito appunto presso il canile rifugio con la possibilità di cessione a privati o associazioni che dopo 60 giorni, scusate, se dopo 60 giorni non vengano reclamati questo sempre in base alla normativa nazionale che però andiamo a vedere a sua volta è stata applicata da ogni singola regione quindi ogni singola regione, secondo i principi che io vi avrei sintetizzato ha disposto delle proprie leggi regionali chi l'ha fatto subito, chi l'ha fatto in ritardo siamo in Italia chiaramente chi l'ha fatto con miliardi di leggi che nel frattempo sono state modificate comunque tutti hanno deciso di applicare questa normativa allora vi ho riportato degli esempi la regione Campania, per esempio appunto con la legge di 1990 che è stata modificata negli anni 2000 prevede in tema di randagismo la sterilizzazione degli animali paganti ad opera sempre del servizio veterinario competente per territorio e prevede anche che gli animali non reclamati entro un mese non so se vi ricordate prima vi ho detto che la legge quadro con la nazionale prevede 60 giorni cioè dopo 60 giorni che non vengono cercati da nessuno possono essere ceduti o associazioni o a privati mentre appunto la regione può derogare in meglio questi principi la Calabria come altre regioni ha per disposto che dopo un mese dalla cattura ovviamente devono essere sottoposti a controlli, cure necessarie e quant'altro possono essere ceduti gratuitamente a chi ne faccia richiesta quindi associazioni o privati ma andiamo oltre con le mie famose slide allora ok scusate se un altro principio sempre della legge regionale della Calabria è per quanto riguarda invece la sterilizzazione scusate un attimo Michele dice batteria quasi scarica non vorrei lasciarmi al buio io parlo lo stesso ma non penso che sia la stessa comunicazione di servizio nel frattempo per quanto riguarda sempre questa legge regionale un altro principio che viene a disposizione scusate che viene prevista è l'obbligo di sterilizzazione degli animali vaganti ad opera ripeto sempre del servizio veterinario competente per il territorio e no sono tornata alla slide di prima è questa qua ecco no volevo dire ho sbagliato scusatemi ripeto sono slide troppo tecnologiche passiamo alla Sicilia per farvi un altro esempio di regione che ha applicato la normativa nazionale con la propria legge regionale in questo caso abbiamo un decreto presidenziale del 2007 che ha modificato la normativa di prima e prevede anche in questo caso la sterilizzazione dei cani vaganti e dei gatti da parte dei comuni d'intesa con i servizi veterinari pubblici e le associazioni protezionistiche scritte all'alvo regionale quindi vabbè sono le associazioni scritte e prevede anche la sterilizzazione gratuita dei cani adottati ecco questo è molto bello se richiesta entro 30 giorni dall'affido cioè magari sono dei cani che sono stati affidati quando sono troppo piccoli, cuccioli quindi non possono essere sottoposti alla sterilizzazione però nel momento in cui si adottano e si fa la richiesta ovviamente è trascorso il termine in cui possono essere sterilizzati entro 30 giorni dall'affido gratuitamente anche il privato può ottenere può ottenere questo servizio che non è poco perché comunque la sterilizzazione giustamente se fatta bene è un'attività che fa un veterinario e chiaramente ha dei costi non incredibili però comunque insomma uno giustamente si deve fare i due calcoli ecco questo ho voluto sottolineare il tutto a spese pubbliche perché sempre secondo la normativa in teoria se noi decidiamo di andare ad adottare un cane come un congatto salvo che vogliamo giustamente fare una donazione siamo liberi di decidere o meno di farla comunque dovrebbe essere appunto a spese del comune se ci rivolgiamo a un canile rifugio in soldoni che cosa vi ho detto fino adesso? secondo questa normativa appunto nazionale e le singole leggi regionali che l'hanno applicata i cani raddaggi sono sottoposti a controlli cure e sterilizzazioni e sono custoditi presso il canile rifugio o presso strutture gestite da associazioni convenzionate oppure rimessi sul territorio se non sono ritenuti pericolosi dopo andiamo un attimo ad analizzare la figura del cosiddetto cane di quartiere che è una figura riconosciuta per legge io vi dirò dal punto di vista giuridico che cosa comporta e eventualmente come si può ottenere riconoscimento i miei colleghi che sono sicuramente più divertenti di me dopo invece vi faranno tutta una valutazione su la tipologia dei cani che vivono liberi quindi non il classico cani che vive con noi in casa allora una domanda che viene fatta molto spesso parlo dello sportello legale OIPA ma penso che comunque sia abbastanza comune cosa possiamo fare se ci si imbatte in un cane vagante e ovviamente che possa avere bisogno di aiuto il classico caso se ci troviamo in autostrada questo ve l'ho riportato perché è un problema del fenomeno del randaggismo quando noi pensiamo al randaggismo è vero, amiamo tutti gli animali vorremmo che tutti giustamente vivessero felici e contenti ma teniamo presente che è un pericolo sociale perché si possono comunque verificare degli incidenti comunque i dati lo riportano la maggior parte dei sinistre stradali d'estate sono cagionati dal cane vagante che sia quello che sia stato purtroppo abbandonato in autostrada o sia quello che giustamente si trova in una certa zona e purtroppo per sfortuna si ritrova magari su una strada trafficata allora il consiglio pratico e legale è quello di contattare subito l'autorità di pubblica sicurezza per chiedere di intervento devono provvedere perché vi ripeto c'è un pericolo anche proprio dell'incomunità pubblica quindi per esempio se ci troviamo in città chiamiamo la polizia locale perché per legge la polizia locale ha comunque la competenza nella tutela nelle prevenzioni del randaggismo e degli animali che sono presenti in città se per esempio ci troviamo invece fuori dai centri urbani o anche in autostrada chiamate comunque la polizia fate presente dove siete e poi uscirà chi di competenza la facoltunile comunque di competenza sempre per il territorio e soprattutto se c'è un animale ferito fatelo presente perché secondo sempre la normativa dovrebbe esserci a disposizione 24 ore su 24 un veterinario pubblico che possa uscire se ci sono casi appunto in cui l'animale riporta comunque delle ferite ecco un'altra domanda ricorrente che ci viene posta è se possiamo portare a casa con noi un cane randaggio comunque un cane vagante allora io qua divento un po' noiosa nel senso che vabbè in base al lavoro che faccio vi devo rispondere chiaramente cosa prevede la legge allora per legge viene sapere che gli animali randaggi sono di competenza del comune in persona del sindaco non ce lo invitiamo noi lo prevede proprio alla normativa quindi la procedura consiste nel recuperare il cane o comunque come dicevo prima segnalare subito appunto la presenza se c'è un cane che ha bisogno provvedere all'identificazione tutto ciò lo deve fare sempre il servizio pubblico la pubblica amministrazione così ci capiamo se manca il microchip devono provvedere appunto all'inserimento alla cura alla sterilizzazione e una volta custodito nel canile rifugio se passa un certo termine che abbiamo visto cambia a seconda della regione allora lo stesso può essere adottato e che quindi può andare o a un'associazione che ne faccia richiesta o a un privato e quindi la mia risposta cosa deve essere? giuridicamente no è vero che magari se abbiamo la possibilità e siamo avanti degli animali vediamo un cane vagante piuttosto che far fare tutta sta trafila che magari spesso volentieri diventa complicato mi rendo conto decidiamo di portarlo a casa con noi però è anche giusto comunque controllare se siamo meno identificati con il microchip perché comunque magari è qualcuno che l'ha perso oppure un altro caso che si verifica di frequente e che vengono rubati c'è chi li ruba si spaventa si rompe del cane lo scarica in un'altra regione e il cane però appartiene a qualcuno e questa è una cosa molto importante riuscire a capire se invece qualcuno ne ha denunciato la scomparsa certo se il microchip dovrebbe essere più facile l'identificazione se non ce l'ha non vuol dire che il proprietario non voglia bere al cane purtroppo ha sbagliato ma magari lo sta cercando e questo è importante perché noi ad esempio come OIPA attraverso la nostra sezione di OIPA Foggia è capitato tempo fa che è stato ritrovato in Puglia un cane un boxer dopo nove anni che in realtà era stato rubato a una coppia mi pare di Ravenna adesso non mi ricordo bene comunque era più appunto centro-nord Italia e per fortuna dopo nove anni grazie alla lettura del microchip grazie alla denuncia che era stata fatta dai proprietari è stato ritrovato ed è stata una insomma un'esperienza bellissima quindi questo vi fa capire perché è vero dobbiamo giustamente aiutare essere utili però dobbiamo sempre contattare l'autorità pubblica e pretendere ripeto un intervento allora passiamo ora invece sempre per quanto riguarda la questione del fenomeno del randaggismo alla responsabilità che ha la pubblica amministrazione per gli danni cagionati da randaggi perché questo è un altro fattore legale molto importante numerose sono le sentenze di condanna quindi le decisioni dei giudici in tema di responsabilità civile in capo alla pubblica amministrazione per danni da sinistro stradale quindi incidenti o anche per morso cagionati da cari randaggi in quanto per legge la pubblica amministrazione come vi ho spiegato ha la competenza nella prevenzione del randaggismo e vi ho riportato qualche esempio allora di recente quindi parlo di una sentenza più o meno sì mi pare 2015 l'ho anche scritto il tribunale civile dell'Aquila con una sentenza appunto del 2015 ha disposto la responsabilità del comune insieme alla ASL per i danni cagionati dall'autovettura di un ricorrente cioè il cittadino che ha deciso poi di andare a fare causa per la collisione su strada con un cane randaggio in qualche parole questa persona con la propria macchina purtroppo è spuntato il cane da un momento all'altro e ha fatto un incidente e ha riportato dei danni all'autovettura e quindi ha citato a giudizio quindi parliamo di una causa civile il comune e la ASL e in questo caso è stata appunto disposta sulla base appunto di un ragionamento giuridico che non vi farò mai se no veramente vi addormentate però comunque in sintesi per quello che abbiamo detto prima c'è una responsabilità e un dovere da parte della pubblica amministrazione di prevenire il fenomeno del randaggismo nel caso di specie probabilmente il cane si trovava sicuramente in una zona dove non doveva stare e probabilmente erano stati fatti anche degli accertamenti di persone che avevano segnalato la presenza del randaggio nessuno si era mosso scusate e si è verificato il sinistro con danno al veicolo casi comunque che esistono ancora più gravi per esempio il giudice di pace di Taranto con una sentenza sempre del 2015 ha disposto una condanna in questo caso a carico della sola ASL per i danni subiti da un minore in quanto il bambino ragazzino era stato morso da un cane vandaggio e nella decisione il giudice ha specificato che la responsabilità del comune appunto o dell'azienda sanitaria dipende sempre dalla disposizione regionale in questo caso vi ho citato il caso della Puglia perché la Puglia è una legge regionale che applica la 281 del 91 che vi ho citato prima ma che prevede che per quanto riguarda il fenomeno dell'andaggismo la competenza praticamente esclusiva è dell'azienda sanitaria e quindi il giudice in questa disposizione ha detto sì c'è responsabilità quindi deve essere esercito per tutti i danni subiti il minore in questo caso si era costituito il padre chiaramente in giudizio proprio perché la normativa regionale prevede che è la ASL che ha autonomia possiamo dire così e potere in capo alla prevenzione del randaggismo un'alternativa alla custodia in canile visto che prima abbiamo appunto parlato del fatto che i cani randagi una volta che sono identificati curati e sono tenuti presso il sono poi custoditi presso il canile rifugio è quella della figura del cane di quartiere una figura molto io parlo dal punto di vista giuridico una figura molto importante perché è questo? perché è riconosciuta da moltissime leggi regionali dopo vi ho riportato degli esempi e anche da ordinanze dei comuni cosa succede? se ci troviamo in una zona in un posto dove c'è comunque un ambiente favorevole adesso vabbè l'Italia si sta un po' ribaltando perché io e Alessandro dovremmo andare a Cosenza e sappiamo che ha levicato da poco però comunque tendenzialmente se c'è un clima favorevole e ci sono anche ci sono appunto dei randaggi che di fatto però sono accuditi da residenti della zona da persone che li conoscono e che stanno bene in strada la legge dà la possibilità di riconoscere a loro diciamo proprio di essere cani di quartiere e quindi di non finire all'interno di rifugi che magari saranno trattati benissimo per carità però la possibilità di rimanere in strada ovviamente saranno sterilizzati a spese della pubblica amministrazione deve essere accertato che non siano pericolosi quindi dovrà farlo chiaramente del personale tecnico cioè competente in questo caso e chiaramente saranno microcippati a nome del comune in questo caso molte disposizioni normative prevedono anche che poi il comune faccia un'assicurazione per responsabilità civile nel caso in cui dovesse verificarsi qualche danno e allora il danneggiato potrà essere chiaramente coperto e per citare qualche realtà nel nostro paese appunto del cane di quartiere per esempio la legge della regione Campania prevede nelle sue disposizioni che il cane di quartiere da dove si accerti la mancanza di pericolosità per la sicurezza dell'uomo di altri animali o di cose perché da sottolineare comunque la tutela non solo delle persone ma anche degli altri animali si riconosce al cane il diritto di essere animale libero tale animale si definisce cane di quartiere quindi vedete che anche a livello regionale la campagna dice sì si può fare vi ho riportato anche un esempio di un comune in provincia di Latina che prevede nel proprio regolamento per l'affidamento di cani randagini venuti sul territorio l'istituzione del cane di quartiere la possibilità di riconoscere la presenza di cani liberi e quindi appartenenti a tutti tra virgolette perché poi un tutor o più tutor ci devono comunque essere ovviamente nel rispetto della sicurezza pubblica allora ci capita che alcune persone che ci chiedono noi viviamo magari in un paese in cui di fatto ci sono dei randaggi ci troviamo bene sono bravissimi sono affezionati a noi però vogliamo tutelarli allora vabbè noi diamo comunque come consiglio sicuramente quello di scrivere al sindaco non telefonate perché le telefonate finiscono nell'etere bisogna sempre scrivere tartassateli piuttosto anche di mail e richieste fate valere comunque la possibilità di far riconoscere questa figura meglio ancora se poi magari parliamo per esempio di volontari abbiamo anche un veterinario che possa sentirsela magari tanto di fare questa richiesta certificando che ci sono comunque le condizioni anche di benessere soprattutto dello stesso cane per poter vivere come abbiamo detto quindi in questo caso io invito sempre a farlo allora arrivo alle sono già andata troppo avanti non ho finito però sto per finire alle conclusioni giuridiche e non ho voluto storlegnare sul fenomeno del randaggismo allora la normativa è chiara io lo dico sempre viviamo in Italia ci lamentiamo di tante cose ma vi posso assicurare che in ambito di animali di tutela degli animali non siamo messi mali come leggi dobbiamo stare attenti perché ultimamente hanno provato a fare dei passi indietro ma noi siamo sempre sul chi va là pronti a lottare e metterci insieme per migliorare la normativa anziché andare indietro però abbiamo delle leggi che non sono fatte male il problema è applicarle e quindi chiaramente ci sono i volontari ci sono i professionisti ci sono i guardie zoofili insomma ci sono tantissimi i veterinari le istituzioni stesse insomma che devono chiaramente fare in modo di applicarle della realtà pratica in realtà poi ve ne parlerà sicuramente Alessandro che ha visto realtà insomma pratiche appunto rispetto a me che magari vedo soltanto i casi soltanto vedo i casi in tribunale che mi basta avanzano però comunque sia ci sono comunque tutti i presupposti per migliorare le cose io concludo nel fatto che è importante essenziale per prevenire sconfiggere il fenomeno dell'andagismo la collaborazione non bisogna partire in quarta sia come volontari sia come avvocati sia come veterinari sia come istituzioni ma bisogna collaborare perché è questo noi ad esempio adesso abbiamo la fortuna di andare giù a Cosenza per fare una conferenza sempre non sul fenomeno dell'andagismo ma sulla questione del maltrattamento e uccisione degli animali e questa conferenza noi la dedicheremo al caso Angelo che io penso e immagino che conoscete tutti perché è il triste caso che si è verificato a San Gineto la scorsa estate un cane randaggio che è stato preso dai soggetti ed è stato purtroppo barbaramente ucciso e poi a sfregio è stato pubblicato il video online che è stata un po' anche la fortuna perché sono stati beccati in pieno adesso non siamo qua per fare tribunale però non siamo neanche qui per cercare di entrare in determinate dinamiche malate dell'essere umano però quello che io voglio sottolineare è che Angelo era un cane randaggio ora la colpa è di tutti mi dispiace per chi ha commesso questa cosa terribile ma la colpa è anche se posso dirlo delle istituzioni questo perché come OIPA abbiamo scritto a parte la denuncia e ci postituiamo come parte civile però noi abbiamo scritto più volte al sindaco che ripeto ha una competenza per legge nella tutela degli animali d'affezione abbiamo scritto in maniera costruttiva gli abbiamo chiesto ti aiutiamo a fare un regolamento per la tutela del benessere degli animali che c'è a Cosenza San Ginetto in provincia di Cosenza quindi bisognerebbe fare un po' più in colla facciamo una convenzione con le guardie zofile abbiamo comunque bravissime guardie giù che ne vedono di tutti i colori e sarebbero stati disponibili a farlo facciamo la figura del cane di quartiere va bene c'è l'antagismo ha il canile pieno vediamo di fare qualcosa magari di mettere dei volontari che possano controllare i cani e quindi tutelarli e non abbiamo ricevuto uno straccio di risposta io non sono polemica non mi piace non lo sono per natura e non porta a nulla però quello che voglio dire con questo discorso non finirò mai di dirlo è che purtroppo in questo caso Angelo come tanti altri animali maltrattati uccisi è vittima non solo della folia umana ma anche dell'inadempimento e delle omissioni delle istituzioni e in parte anche dei volontari che sbagliano tantissime cose seppur in buona fede quindi io quello che posso seppur nel mio piccolo essere raccomandarmi è quello di collaborare e di non essere ottusi proprio per sconfiggere questo tristissimo fenomeno spero di non avervi annoiato grazie grazie a Claudia che è riuscita in così brevissimo tempo a condensare e a disporre un problema così caldo per quanto riguarda il fenomeno del radiologismo portandoci anche delle testimonianze prima di passare la parola ad Alessandro Piacenza che è il vice coordinatore nazionale delle guardie esofere dell'OIPA ma anche responsabile giuridico dell'OIPA Italia tanto sta la presentazione pronta volevo ricordare a tutti quanti proprio come ha detto anche Claudia tutti i volontari dell'OIPA le guardie esofere dell'OIPA stanno operando su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24 per le varie emergenze emergenze terremoti emergenze maltempo ma anche per le varie problematiche quotidiane che si vengono ad affrontare o che vengono segnalate sia alle sezioni che ai nuclei di guardie tutto questo lo si fa anche grazie al vostro aiuto perché è un'associazione è un'associazione di volontariato il volontariato è la nostra colonna portante ma il volontariato ha bisogno anche a volte di un sostegno economico per cui per fare un esempio questa è una serata dove tutte le vostre offerte saranno dovute logicamente a sostegno delle varie attività dell'OIPA passo la parola ad Alessandro grazie buonasera a tutti allora io sinceramente ne riprenderò molto di quello che ha detto Claudia ovviamente perché vorrei dargli una chiara di lettura per capire cosa non sta funzionando perché se dovessimo parlare in tutti i casi di canili mal gestito del fenomeno diciamo del mal costume che c'è del business del randagismo in alcune regioni dell'Italia saremo qua tutta la notte inizio la mia presentazione perché io ho iniziato a fare volontariato in canile nel 90 ed ero un giovane studente in giro di studenza appena uscito dal 281 del 91 questa legge che ha portato dei principi fondamentali in materia di tutela degli animali io da buon studente sono andato in libreria giuridica e sono andato a comprarmi e lo porto con orgoglio la coppia originale della gazzetta ufficiale dal nottuno del 91 e la tengo alla pari quasi del batteso di mio figlio o altre cose del genere perché assolutamente la reputo una legge fondamentale se venisse rispettata fosse in un paese diciamo normale la legge dovrebbe essere applicata altrimenti a cosa serve solo a pubblicare e a sprecare carta no questa no ovviamente quindi richiamo solamente per un escluso il principio generale del 8.1 del 91 che racchiude solamente in questo articolo 1 che serve la razio legis cioè serve il punto principale della legge un principio che già nel 91 quindi parliamo di 26 anni fa era un principio assolutamente già ampio e già completo per risolvere il fenomeno del randagismo del randagismo canino del randagismo felino del maltrattamento di animali e tutto il resto ma vediamo che c'è qualcosa tutt'oggi che non funziona infatti vediamo che l'articolo 2 la cosa carina e qua vorrei darvi appunto come dicevo io prima delle chiavi di lettura vedere quali sono gli enti competenti che non enti competenti e le realtà che non permettono poi di farsi occupare questa legge perché ad esempio si parla anche in questo periodo qua di riformare il notturno del 91 personalmente ritengo che invece che coprire una legge non applicata con una nuova legge che non verrà applicata sarebbe meglio magari cercare di far applicare la legge già esistente e quindi vedete qui che è il punto 1 dell'articolo che parla già di due principi che poi non vengono rispettati cioè quello che è la popolazione dei cani e dei gatti mediante l'imitazione dei nasciti cioè l'articolo 2 parla che il secondo articolo in caso di importanza parla della sterilizzazione cioè prevede già che esista la sterilizzazione già nel 91 se si fosse applicato questo principio già nel 91 non lo avremo e lo vedremo poi nelle serie successive un ingresso nei canini medio anno di 100.000 cani in tutta Italia quindi voi calcolate l'enorme numero di cani che entrano ogni anno nei canini italiani poi vabbè io l'ho sottolineato in rosso perché ripeto io ero volontario in un canile è ovvio quando è stato introdotto il principio che i cani ritrovati catturati comunque ricoverati non possano essere soffressi io lo facevo volontariato in un canile e questo è anche un'altra chiave di lettura in un canile di un rifugio di un'associazione perché dovete capire che prima del 91 la gestione del randagismo aveva un aspetto non era un business perché c'era l'istituzione che doveva sanitario gestire il cani randaggio dopo 10 giorni della soppressione normale come io arrivo dal Piemonte in Torino con 365 comuni avevamo un solo canile sanitario poi calcolate è un solo canile proprio in tutta ufficiale comunale un solo canile in tutta la provincia di Torino fino al 91 e il secondo punto e poi c'erano le associazioni animaliste o persone singole che invece per salvare questi cani creavano questi rifugi a volte forse esagerando ma principalmente li salvavano infatti io facevo un triaggio in un canile che andava e purtroppo fortunatamente non ero io la persona perché ero un giovane volontario a scegliere quali cani salvare e quali non salvare quindi quando si è introdotto questo principio per chi è sensibile alla materia e alla tutela degli animali capite che è stato come vincere all'otto veramente è stata una vittoria e storica ed epica questo punto di vista qui e poi vediamo allora cosa prevede ancora poi molto velocemente non vi faccio una lezione di quello che è la legge che la conoscerete sicuramente meglio di me prevede un'altra abbiamo visto l'articolo 2 che cosa prevede? prevede la stilizzazione dei cani e dei gatti l'articolo 3 è l'istituzione di una grefe canina quindi se avessimo applicati questi due principi a quest'anno staremo qui stasera a parlare di fenomeno dell'andagismo in alcune regioni dell'Italia considerato come un problema endemico quindi calcolate che è assurdo questa cosa qui ma non solo poi l'altro punto poi lascio vedere l'altro punto importante è che prevede l'articolo 4 della legge 281 del 91 con delle modifiche apportate a distanza dei anni quindi nel 2006-2007 che i comuni singoli e associati e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incluente attraverso la stilizzazione quindi non solamente già lo prevedeva l'articolo 2 lo prevede ancora anche la competenza dei comuni quindi si deve capire che in teoria la stilizzazione dovrebbe essere uno strumento fondamentale per contrastare il fenomeno dell'andagismo sempre l'articolo 4 con la modifica sempre di una legge del 2007 prevede che i comuni singoli e associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i cattivi sanitari direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari della associazione animalista e zoofile preposta alla gestione dell'adozione e dei definimenti dei cani e dei gatti se voi analizzate nello specifico questo tipo di principio non si parla di canili di gestione diciamo che i comuni si devono per forza convenzionare con strutture private ex allevamenti o ex strutture ex pensioni che facciano le funzioni facenti del comune perché qua la legge non parla mai assolutamente di derogare la gestione del randagismo ai privati cioè nel senso al massimo gli dà il proprio canile in convenzione al privato ma con l'obbligo di far entrare le associazioni anche qui è disatteso al 200% gli posso dire che abbiamo dei casi qui d'Italia è unita in questo caso perché io ho trattato dei casi in Piemonte in Molise non parliamo in Sicilia piuttosto che in Calabria piuttosto che in Puglia quindi voi calcolate che disattesa e basterebbe prevedere delle sanzioni amministrative economiche andiamo a toccare nel portafoglio non penale perché tanto qui tra condoni e altre cose la gente non va in galera neanche se ammazza una persona quindi lasciamo perdere questo aspetto qui andiamo a toccarle dal punto di vista economico questo argomento qui perché sinceramente è assurdo che ci siano delle leggi che vengono e questa è una classica legge che non viene applicata in nessuno dei suoi articoli ma non solo voi diciamo vabbè è una legge rimane lì tu sei un fissato c'è la gazzettina ufficiale va tutto bene però vediamo che poi nel corso degli anni quella circolare per esempio del Ministero della Salute del 10 marzo numero 9 prevede che subito dopo pochi mesi dall'introduzione della legge della 281 prevede che i problemi maggiormente in evidenza riguardano la limitazione delle nascite che deve essere favorita ed incentivata dal contenere espandose della popolazione dei cani e dei gatti cioè il Ministero ridice mandano la circolare e se vedete quando sono i destinatari di una circolare c'è di tutto proprio c'è di tutto altri ministeri le regioni le province autonome e tutto quanto e anche questo questo qua prevede già nel 92 richiamando i principi di icono si prevede d'altro sì la necessità di risanamento dei canili esistenti e poi l'innovazione che spiega c'è il Ministero a me sembrava chiaro ma il Ministero ha dovuto spiegarlo l'innovazione consiste nell'obbligo di costruire i diffugi per cani anche qui vediamo che non c'è nessun richiamo a delegare la gestione del randagismo a strutture private ma assolutamente deve essere comune che si farsi carico in prima persona di o risanare i canili esistenti o di costruire i rifugi per cani quindi calcolate che questo se volete facciamo un regolo lunghissimo anzi forse sono un po' meno i canili che sono in regola in questa maniera ancora nel 2001 a distanza di 20 anni cioè sì di 10 anni vedete che tira fuori ancora qual è il problema l'eccessiva proliferazione canina determinata dalla reproduzione naturale dei cani liberi e vaganti incontrollabili e incontrollata hanno talmente incrementato il randagismo vedete che continua il ministero a rispiegare che sempre a tutti gli enti quindi parliamo della regione arriva fino alla circoscrizione del quartiere a mandare tutte queste comunicazioni qui ma niente da fare e prevede ancora e richiama per non essere chiaro magari siamo in Italia paese dei legali paese dei giuristi che interpretano la legge come la vogliono quindi di conseguenza qui vediamo che cosa vediamo che dicono punti rinunciabili termini anche abbastanza pesanti per chi deve scrivere una cosa del genere l'analogo dei cani corrisponde all'esigenza nazionale della massima trasparenza e il fine di consentire l'immediata unificazione di tutti i cani del territorio per esigenze sanitarie e pertanto di essere realizzata e la sterilizzazione dei cani randagi cioè qui continua a essere detto ma ragazzi miei sterilizziamo questi animali e invece questo non succede perché ovviamente come si riempiono i canini con cucciolate assolutamente mal gestite che per crescono sono vaganti quindi se noi andiamo a monte e alla fonte e sterilizziamo i cani a questo punto di vista qua va bene ma non solo sempre a circolare del 2001 che hai cominciato a capire dopo dieci anni che c'era comunque un problema non solamente in sterilizzazione dei cani randagi prevede che cosa? che la sterilizzazione guardate mi sono volato anche la mia la sterilizzazione e i terreni sterilizzazioni vanno stimolati anche relativamente ai cani di proprietà per evitare il proliferare della popolazione femmina cioè già nel 2001 dice ma facciamo qualche cosa anche per sterilizzare per sterilizzare i cani delle vite privati perché magari il randagismo vediamo che può essere anche portato è un settore importante per quanto riguarda il fenomeno del randagismo poi va bene sempre nel 2001 ma qua stiamo leggendo probabilmente circolari e atti amministrativi di un altro stato perché vedo che poi non vengono applicati prevede che cosa? sempre a circolare nel 2001 che ve lo dico qua leggete sulla parte evidenziata partendo da il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canini da parte dei comuni ripetisco gestione dei canini da parte dei comuni partendo in origine che il canile è comunale non è una pensione dell'amico dell'amministratore non è un allevamento dell'amico dell'amministratore parliamo di canini comunali che cosa? non deve essere valutato unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al citato articolo 1 in sostanza l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canini ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali cioè vi rendete conto che i principi del benessere anche nell'ottuno si parla di benessere degli animali comunque anche per quanto riguarda nei canini quindi vedete che da questo punto di vista qui vedete che in teoria il ministero le circolari la legge continuano a richiamare questi due principi fondamentali cioè sterilizzazione gestione diretta del canile che può darlo in concessione alle associazioni prioritariamente in secondo può darlo ai privati ma può permettere alle associazioni di entrare e questo non funziona parliamo ancora poi dell'accordo stato-regione sul benessere degli animali da compagnia del 2003 che prevede la creazione di introduzione di microchip va bene un'innovazione tecnologica rispetto al tatuaggio la creazione della banca dati informatizzata su base regionale provinciale che garantisca la connessione con quella di cui la lettera cide per l'articolo c'è la connessione tra una nagrafe canina nazionale ma a tutt'oggi la nagrafe canina nazionale non esiste c'è un veterinario o un pubblico ufficiale che ha accesso la nagrafe canina che trova un cane microchipato di un'altra regione non può andare a vedere chi è il proprietario ma si deve mettere in contatto con quale può essere l'ente diciamo della loro interruzione del cane l'accordo stato-regioni del 2013 che cosa prevede prevede di istituire e implementare le nagrafe degli animali e poi prevede che il proprietario del detentore di un cane provi da far edificare e registrare l'animale entro secondo mese di vita ma questi documenti che io vi ho fatto vedere richiamando scusate per il mio scursus di vita richiamando le leggi li potete trovare anche su questo bellissimo libercolo che trovate sul sito del Ministero della Salute che prevede quali sono le norme nazionali sulla tutela degli animali d'affezione e l'ottorandagismo e spiega quali sono le competenze e responsabilità e spiega qual è la competenza del Ministero qual è la competenza della Regione qual è la competenza del Comune qual è la competenza del servizio veterinario qual è la competenza del proprietario del cane sulla carta cioè se arrivasse un extraterrestre oggi e terrassi in Italia un extraterrestre da un paese vegan e dovesse arrivare sulla terra e dice cavolo questa è una normativa assolutamente a norma su benessere degli animali e se leggesse questo buscolo ma vediamo allora quali sono che dal 91 per contrastare il fenomeno del randagismo parliamo di l'anagrafe canina sterilizzazione gestione diretta comunale dei canini e coinvolgimento dell'associazione animalista però uno potrebbe obiettare vabbè ragazzi tu mi dici a me è comune di fare tutta una serie di atti che però hanno un costo e allora io non vi parlo dei finanziamenti che sono stati fatti dal 92 perché sono iniziati subito fino al 2004 perché sono stati fatti diversi finanziamenti per il sanamento dei canini vi dico solamente che dal 2005 al 2015 quindi parliamo molti anni dopo dall'approvazione della legge sono stati silenziati dal ministero oltre 21 milioni di euro per il sanamento dei canini e microcipature e sterilizzazione voi calcolate che ci sono stati adesso ogni anno scema sempre di più si abbassa sempre di più la cifra però vedete che tutto questo con quelle diciamo con una legge così con dei finanziamenti del genere dovremmo avere risolto il problema dell'andagismo poi io vado su internet mi trovo un qualsiasi giornale e mi trovo la stampa qualche mese fa nel 2016 che mi dice il randagismo in apparente calo in Italia in Italia in 10 anni 22% dei cani dei cani e dei canini cioè tutti questi 21 milioni tutte queste circolari tutte queste leggi hanno si creato a malapena un 22% in meno dei cani e dei canini e andiamo allora a vedere che cosa andiamo a vedere che cosa vediamo che il numero di ingressi dei cani dei canini sanitari c'è il numero dei cani vaganti catturati sul territorio nel 2015 è stato di oltre 100 mila nel 2011 di 104 mila voi calcolate quant'è il numero esagerato ancora di cani io sto parlando di cani non parliamo poi di l'andagismo felino che sembra il figlio minore ma assolutamente ha un'emergenza anche quello ma stasera si parla di fenomeno dei cani quindi vedete che è un'enorme età vedete che tutti gli strumenti messi in campo questi non risolvono non risolvono per niente le problemi del randagismo e vediamo ancora una cosa strana vediamo che in Italia come canini sanitari e rifugi autorizzati c'è solo 1051 1051 vorrei farvi solo vedere in una regione dove il randagismo è indenico tipo la Puglia c'è solo 175 autorizzati capite? allora c'è qualcosa che qua non funziona e infatti cos'è che non funziona? che ogni tanto anche i giornali tirano fuori ho preso solo alcuni articoli nel 2009 quanto vale il dolore di un cane? la mafia dei canini e il business del randagismo la denuncia la lobby del randagismo cani e emergenza sud i randaggi sono 600 mila e qua via qui ci sono articoli giornali tutti oggi parlavo oggi che c'è anche una raccolta firme non so che valore abbia perché è online per mettere le videocamere dentro i canini è tutta una serie di cose cioè vedete che nonostante tutto si parla di lobby si parla di mancata applicazione della legge e vi racconto un episodio in cui partecipato anch'io durante un incontro nel ministero nel 2015 che ha riunito sul fenomeno della commissione l'andagismo ha riunito l'epidato principale dell'associazione nazionale ha chiesto alle associazioni presenti eravamo presenti io e Mauro ad esempio a rappresentare Open col momentico della volta lì ha chiesto indicateci tre canini peggiori su cui dobbiamo intervenire immediatamente di questi tre canini emersi dalle quattro associazioni presenti quindi OIPA EMPA LAVA Liga del Cane sono emersi un canino in Sicilia un canino in Calabria e un canino in Molise non è apparto nessun altro tipo di canile in altre zone d'Italia vedete che quindi il problema parliamo perché sono apparsi e poi se andiamo a vedere in Sicilia e in Calabria quali sono questi canili sono canili che hanno migliaia di cani e infatti quali sono le motivazioni attuali del fenomeno del randagismo è che è un business milionario per la gestione dei canili io ho portato un esempio classico sia in Calabria che in Sicilia solo per citare due esempi che ho vissuto personalmente e che sono andata a visitare abbiamo per esempio migliaia di cani con convenzioni giorno cane cioè io ti do come comune a te struttura manco comunale assolutamente in deroga tutti i principi che sono previsti dalla legge che abbiamo visto fino adesso ti do 3,50 4 euro per gestire al giorno per gestire un cane facciamo un esempio mille cani presenti per 3,50 euro al giorno parliamo di un milione di euro all'anno se parliamo di 2.000 o 3.000 cani arriviamo di 2-3 milioni di euro all'anno voi calcolate e poi non parliamo io mi sono tenuto a ribasso 3,50 euro ma ho visto convenzioni sia in Sicilia che in Calabria che arrivavano a 6-7 euro al giorno voi calcolate che allora capiamo qual è il problema e il problema nasce da una deroga alla gestione del fenomeno dell'andagismo a privati in assoluta deroga a quello che prevede il nottuno e tutte le circolari che abbiamo visto fino adesso perché non c'è previsto assolutamente che il canile sanitario o rifugio deve essere gestito da un privato se non sotto il controllo del comune e su una struttura comunale e cosa manca allora mancata applicazione dei punti che abbiamo visto via prima da un punto di vista teorico microchip sterilizzazione coinvolgimento d'associazioni che devono avere il compito dell'affinamento dei cani e poi quello che prevedo io mancata applicazione di una distante pesante sanzione economica perché a me basterebbe una modifica del 281 dove c'è la voce sanzioni che è di solito l'ultimo articolo dove prevedo delle sanzioni enormi per la mancata applicazione di quello che prevede la legge e vedete che magari milioni di euro glielo faccio pagare in tasse in sanzione e quindi magari questi cominciano a capire che il bisancio non c'è e poi purtroppo a volte manca anche perché a volte sono anche diciamo conniventi mancanza dei controlli da parte degli enti pubblici competenti perché può capitare che non sempre riescono a coprire questo tipo di diciamo di controlli per tutta una serie di motivi io con questo concludo le soluzioni esistono già ma non sono applicate e questo è il grosso fenomeno del problema del randagismo è la mancata applicazione delle soluzioni che esistono già dal 91 che il legislatore ce l'ha già indicato nel 91 con questo concludo poi in aspetto diciamo dei cani lascio dell'etologia dei cani del comportamento lascio poi ai relatori che sono dopo grazie ringraziamo Alessandro che anche lui è riuscito in così breve tempo a darci veramente un quadro esaustivo di quello che è la realtà sul territorio le leggi ci sono molto spesso non vengono fatte applicare ci proviamo anche noi volontari ci provano le istituzioni però ci sono degli anelli deboli in questa catena uno per tutti veterinari il cane è microcippato vado al veterinario il veterinario pensa sudissimamente di dire al proprietario del cane microcippalo perché ha paura di perdere un cliente e questa è una delle cose più basilari che bisognerebbe cercare di far capire ai veterinari agli ordini dei veterinari ma soprattutto anche a tutti coloro che svolgono la loro attività in questo campo le ASL e le regioni cominciamo a cercare di capire i vari veterinari quanti ne hanno cippati perché anche le regioni fanno di tutto campagne di microcippatura gratuita sul Lazio la regione Lazio più volte nelle varie regioni scusate nelle varie province è riuscita a far fare delle campagne di microcippatura gratuita certo che se poi si presenta il signore o la signora che ha l'allevamento e si presenta con 15-20 cani da microcippare dice qualcosa che non quadra però questa signora con 10-15 cani da microcippare sicuramente ha un veterinario che gli va ad accudire tutti quanti i cani e controllare quindi l'anello debole secondo il mio parere è principalmente il veterinario volevo aggiungere un'altra cosa che sulla regione Lazio ultimamente ottobre 2016 se non sbaglio con giusto? 3 ottobre 2016 c'è una DGR 621 che ha cambiato parecchie cose ha dato delle indicazioni più precise più puntuali soprattutto chi è del settore che opera sulla regione Lazio un consiglio di leggerselo e di cercare di farlo applicare anche a chi lo deve applicare queste linee guida questa DGR queste informazioni sono veramente basilari si richiamano a leggi già esistenti perché il problema è sempre il solito leggi già esistenti da far applicare però qualcosa sta cambiando anche da parte della regione Lazio come istituzione lascio ora la parola a Michele Di Cunno che è un non leggo perché la cosa è lunghissima è istruttore cinofilo esperto di dinamiche dei branchi di cani randacci lo conoscete? ok allora a lui la parola senza bisogno di nessuna presentazione vai Michele grazie buonasera io volevo farvi vedere un attimo proprio parlando di partendo sul discorso dell'andagismo in realtà volevo farvi vedere una cosa che ho filmato oggi qua a Roma è che non rivolgere i nostri cani mi raccomando no beh poi c'è un'altra che non so se però no non c'entra niente in realtà con i cani e volevo farvi vedere questa cosa che abbiamo visto oggi che per me cioè è stata proprio ne aspetta perché perché sì sì allora quello che vedete adesso è stato proprio bello nel senso che ora vi spiego perché mi riallaccio al discorso dell'andagismo perché c'era a Roma in un parco c'era questo piccolo di gabbiano che era proprio giovane si vedeva che era proprio appena uscito dal nito e e c'era la madre che lo guardava mentre lui incominciava a beccare per terra sì non fa niente e quindi praticamente mentre c'era nuova c'era di tutto colombi questa cornacchia che aveva preso una ghianda che la faceva vedere a tutti però ecco questa è la mamma e questo è il piccolo e lì è rimasta sì è più grosso il piccolo però lì è rimasta là a guardarlo tutto il tempo poi a un certo punto se n'è andata e lui si è messo cioè istantaneamente è stato impressionante ora io non lo so se è la mamma perché non li conoscevo e oggi però però sicuramente c'era un legame tra di loro perché appena se n'è andata si è andato questo gabbiano magari era il padre non lo so appena si è andato questo gabbiano qua lui si è sdraiato per terra si è spento completamente e alzava la testa e guardava in cielo aspettando che tornasse ma in questa cosa c'è la cosa che mi ha fatto riflettere è che se voi vi fate un giro dalle mie parti ora vi faccio vedere anche anche altri video sui cani il discorso è che è una cosa da osservare e che ti ti prende perché cioè secondo me è una cosa bellissima nel senso che là c'è la madre che guarda il piccolo che sta cominciando ad affacciarsi al mondo e è la stessa cosa avviene con con i cani che vivono sul territorio cioè è identico soltanto che purtroppo l'intervento delle persone sui cani è qualcosa che ormai è diventato incredibile da tanti punti di vista nel senso che sì è vero c'è tutto il discorso della gestione del randagismo è vero tutto il discorso di assolutamente sono d'accordissimo sul fatto di quanto noi siamo fortunati ad avere una legge in Italia che comunque perlomeno al primo posto rispetto a tutto quello che diciamo tutti i vantaggi che ci sono secondo me è comunque mantenere la mente delle persone aperta perché il discorso è che comunque più vi spostate non so io ho avuto ultimamente l'esperienza in Germania in Polonia ed è stato terribile perché comunque il controllo che prende l'uomo su qualsiasi cosa che riguarda il discorso naturale è assurdo nel senso che vedere i cani sono sempre stati con noi vicino nei villaggi nei paesi nelle città soltanto che adesso chiaramente sono diventati un problema perché io quello che poi volevo chiedere anche prima della 281 che legge c'era e quando questo regolamento è stato fatto chi ha deciso che i cani randaggi non ci dovevano essere il discorso è che da un giorno all'altro abbiamo deciso che quella è una cosa da eliminare questo è il punto sostanzialmente ed è chiaro che ora noi non possiamo più accettare non possiamo più pensare al discorso che ci siano tantissimi randaggi come come poteva essere prima però la gestione del fenomeno randagismo sul territorio è assolutamente un qualcosa che si può fare e assolutamente si può fare senza i canili nel senso che l'obiettivo per me è proprio liberare svuotare i canili nel senso che un equilibrio sul territorio come dicevano prima Claudio e Alessandro il discorso è che comunque ci sono tantissime anche tanti strumenti che abbiamo adesso tipo la sterilizzazione o comunque anche il cane di quartiere cioè cominciare a mantenere un equilibrio esterno piuttosto che prendere cani e buttarli nei canili perché tanto è una cosa che non funziona perché al di là del discorso dei canili come diceva Alessandro riconosciuti poi il fenomeno più grave almeno vi parlo per esperienza personale è che voi trovate sul territorio tantissimi rifugi privati che nascono dal giorno alla notte cioè una persona si sveglia e questo è vero sia da un punto di vista dei privati che come diceva Alessandro vogliono specularci so per prendere soldi poi c'è anche il discorso associazioni perché poi c'è un aspetto malato delle associazioni per cui ci sono tantissime derive che possono andare dall'egocentrismo le manie proprio di ricerca di attenzione o anche di controllo su qualcosa o mancanze affettive per cui uno si sveglia la mattina a una campagna si alza 20 box e si riempie quei 20 box di 60 cani e questi cani non lo sa nessuno che stanno là dentro senza considerare il traffico continuo che c'è di cani dal sud dal nord che è una cosa che non fa altro che liberare delle aree dove i cani in quelle aree ci stanno già noi le liberiamo e ne arrivano altri e li continuiamo a liberare e ne arrivano altri e nel tempo quello che è successo è che abbiamo rinchiuso migliaia e migliaia di cani secondo me milioni dentro delle gabbie che faranno una vita che puoi vivere da 5 mesi a 15 anni dentro un box senza avere nessuna possibilità perché poi là dobbiamo andare a vedere anche le possibilità di adozioni sui cani che vengono presi dal territorio e non sono socializzati con le persone che non troveranno mai adozione e quindi la responsabilità di chi prende quei cani per salvarli togliere quei cuccioli per salvarli e metterli all'interno di delle gabbie o farli adottare e poi quei cani li ritrovate al nord Luca lo sa bene ve li ritrovate nei canili del nord perché sono cani che non sono socializzati con le persone non sono adatti a vivere in centro città a Milano eccetera vanno a finire nel canile e muoiono là dentro e non c'è differenza nel canile che c'è a Milano dal canile che c'è giù perché comunque anche il discorso che vedete nelle associazioni adozioni soltanto al centro nord perché noi giù al sud siamo pezzi di merda ce l'hanno capito noi non possiamo adottare i cani cioè il discorso è questo cioè c'è un continuo movimento nel pensiero perché c'è l'idea viene passata l'idea che noi cioè che al sud tutti i cani stanno male che tutti i cani hanno bisogno di cure che tutti i cani sono poverini e vanno salvati mentre quei cani stanno benissimo cioè il discorso è la maggior parte dei cani che vivono sul territorio e sono in equilibrio sul territorio stanno benissimo io voglio farvi vedere proprio a questo proposito un video di una madre con dei cuccioli prima vi faccio vedere questo perché 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 quello che vedete in questo video qua questa è una mamma che ha partorito questi cuccioli e il cucciolo qua si sente un attimo questo è il momento in cui sta nella tana si sente un po' preoccupato e la chiama e lei rimane a distanza e guarda la situazione mentre il cucciolo poi alla fine decide di ritornare dentro nella tana però voglio farvi vedere proprio un attimo ecco questo a parte vabbè questo è arrivato un attimo a fare la spesa quello che voglio farvi vedere a parte cioè quanto questi cani non li vedete denutriti non li vedete in sofferenza non li vedete che stanno male il punto è che ci sono tantissimi modi per mantenere un equilibrio con il numero dei cani presenti sul territorio rispetto che prenderli e portarli in canile perché io prendo questi cuccioli qua li porto li porto in canile e quello che succede è che semplicemente qua ho liberato un'area e in quest'area arriveranno nuovi cani e quindi il numero di cani e io li prendo e li riporto il canile il numero dei cani che va a finire in canile aumenta esponenzialmente ecco questa è la mamma che guardava il cucciolo mentre noi eravamo lì questo stavo cercando proprio questo pezzo di filmato che a me ricorda esattamente come la mamma del gabbiano guardava il piccolo di gabbiano mentre lui incominciava a girare a mangiare per i fatti suoi e il punto è che al gabbiano nessuno va a rompergli le scatole e poi che lo prende che lo deve salvare perché quello che è successo è che poi quello che andiamo a vedere anche da un punto di vista del foraggiamento molto spesso ci sono volontari che pensano che questi cani senza di loro non sopravvivono quindi che devono portargli loro da mangiare tutti i giorni perché se non vanno loro allora quei cani non sopravvivono poi basta che voi vi fermate un attimo aspettate un paio d'ore e vedete che arrivano tipo 5-6 persone nel tempo che danno da mangiare a quei cani e allora anche questo è un aspetto che va considerato cioè secondo me la gestione pratica di una realtà dove ci sono dei cani randaggi può essere gestita serenamente mantenendo un equilibrio tra quello che sono le persone e quello che sono i cani nel senso che comunque quello che noi andiamo a vedere è che non ci sono realtà uguali per il randagismo sempre e comunque ma ogni situazione è diversa perché io posso trovarmi davanti delle persone che sono molto tolleranti rispetto ai cani poi mi posso trovare in delle situazioni dove le persone non sono tolleranti affatto e quindi la situazione dei randaggi in quel contesto va gestita sicuramente in modo differente rispetto che nel primo caso però comunque il passaggio che ci deve essere a livello culturale che si sta avendo adesso se voi andate in Germania o in Polonia per esempio quello che ho visto ora voi andate a vedere il canile di Berlino sembra una cosa eccezionale sembra una cosa pulitissima ci vanno le famiglie a fare la gita di domenica però quello che non si vede è che là dentro ci stanno dei cani che stanno sclerando perché stanno chiusi dentro delle delle gabbie delle vetrine dove le persone vanno là e guardano e scelgono e la cosa bruttissima è che è tutto asettico per carità tutto pulito tutto igienizzato però questo che cosa comporta che noi stiamo prendendo un aspetto naturale stiamo prendendo il controllo di questo allora il discorso è che dal mio punto di vista per esempio l'esempio che faceva Claudia prima sul fatto che un cane una persona ha investito un cane e quindi ha avuto danni alla macchina io allora voglio vedere se poi quella ripercussione ci sarebbe stata ugualmente se ad investire la persona avesse investito un cinghiale piuttosto che un cane cioè nel senso che il discorso è quello noi abbiamo creato le strade abbiamo creato le macchine e allora i cani che sono gli animali che vivono più vicini alle persone sono diventati un problema che il problema lo dobbiamo eliminare e noi abbiamo cominciato ad eliminarlo eliminandolo in tutti i sensi nel senso proprio uccidendo i cani poi per fortuna noi ci siamo abbiamo cambiato direzione però questo significa trovare un nuovo punto di equilibrio e il nuovo punto di equilibrio significa che comunque bisogna pensare come primo aspetto al benessere del cane cioè nel momento in cui io vado a prendere quel cane dal territorio io sono responsabile di tutto quello che succederà a quel cane non è che io ne posso prendere uno oggi uno domani uno dopo domani cinque la settimana prossima e io non so neanche come faccio a seguirli cioè alla fine che cosa succede che le associazioni che lavorano in modo superficiale non fanno altro che spostare il problema il problema cioè il problema loro non è il problema dei cani lo spostano da una parte all'altra però non si rendono conto di come stanno quei cani dove arrivano non vanno a vedere qual è il destino anche di molti di quei cani allora vi faccio vedere questa è sempre la madre che avete visto prima con i cuccioli è quello che potete notare che comunque a parte il fatto che lei adesso sta lasciando i cuccioli sta dicendo ai cuccioli che non non li darà da mangiare e tutti sono d'accordo tranne quello nero quindi una volta che lei mette in chiaro che non è il momento di mangiare quello nero continua a pizzicarla però poi prende mazzate quella bianca lascia stare siamo del sud e poi quello che vedete è che nel tempo loro si spostano e vanno a giocare io voglio farvi vedere proprio il discorso di quanta serenità voi vedete in questo video cioè prendete in considerazione che questa è proprio una famiglia e questi sono cani che voi non vedrete non sono socializzati con le persone ok cioè alla madre voi non vi potete avvicinare non è che ha un problema cioè non è che un cane che ha un problema è un cane che non è socializzato con le persone perché è un cane semiselvatico poi ci sarebbe un discorso lunghissimo da fare tra cani randaggi cani semiselvatici o comunque cani non socializzati con le persone e io quello che voglio farvi vedere proprio per il discorso di famiglia che quando incominciano ad arrivare gli adulti ecco questa è una femmina adulta che è la figlia di questa bianca di quattro anni prima quindi è la sorella dei cuccioli la sorellista la sorellista adesso guardate qua per me questi due video che vi faccio vedere in sequenza sono bellissimi perché proprio fatti nello stesso giorno questo è un cane maschio che vuole andare a conoscere i cuccioli perché non li ha mai visti sono usciti adesso dalla tana cioè la mamma li ha tenuti nella tana fino a questo periodo poi li ha portati con il gruppo e adesso se vedete la loro comunicazione è fantastica perché è soltanto legata a degli sguardi e la mamma guarda la direzione che lui non deve superare perché non vuole che lui vada dai cuccioli e gli lancia giusto delle occhiate ecco tipo questa quando lui se ne vale si rilassa perché c'è il senso non è che ce l'ho con te non voglio che vai dai piccoli perché cioè se non giocano poi non dormono e quindi quello che vedete è che poi infatti Peppio vi dà l'idea di famiglia dove lui si va a sdraiare proprio vicino a lei perché sono una famiglia cioè e passano del tempo insieme sono rilassatissimi non vedete tantissimi comportamenti d'ansia che noi vediamo tanto nei nostri nei nostri cani e ancora vi faccio vedere un altro video riguardo questa questa famiglia perché voglio farvi vedere questo adolescente che ha 10 mesi quanto è maturo rispetto ai nostri cani cioè guardate anche la differenza individuale cioè nel senso che comunque è una cosa importantissima cioè prendete dei cani che vedono le persone e hanno paura adesso dopo vi farò vedere proprio la reazione che c'è in cani che sono sociali cuccioli che sono socializzati con le persone cuccioli che non sono socializzati con le persone ora se vedete questi il cucciolo nero è terribile lui sa esattamente cosa deve fare si butta pancia all'aria e dice è proprio se lo vedete è proprio rilassato il fratello bianco si preoccupa un poco e scappa però quando arriva suo fratello comunque gli dà la stessa risposta del cane nero e poi questo vabbè questo la sa lunga cioè se vedete è proprio a suo agio cioè lui sa quali sono le cose da fare per smorzare tutte le tensioni e ora vi voglio farvi vedere il terzo cucciolo che è una reazione completamente diversa cioè voi potete vedere come stanno dormono 16 ore al giorno cioè proprio a dire potessi farlo io voglio farvi vedere adesso anche questo cioè qua vedete loro stavano giocando su questa su questa pedana su questa discesa poi smettono di giocare uno dei cuccioli quello nero già è avanti uno dei cuccioli si butta giù e ora vedete la sorella che non riesce a scendere per dire noi spesso tendiamo subito ad andare ad aiutare mentre là stanno gli adulti che dormono rilassati o come il gabbiano con il piccolo questa lo prende per il culo logicamente bastando dentro è una brutta persona però lei giustamente gli risponde che ti ridi che si vede che sei adottato e poi deve morire perché chiaramente quando scende deve morire però guardate la reazione del terzo cucciolo al fratello grande voglio farvi vedere il discorso è la differenza nelle personalità che hanno eccolo questo è più pessimista di tutti lo vedete la reazione che ha è proprio di tensione lui non sa che fare è rigido dalla paura dice non lo so perché ma mio fratello mi vuole vedere molto è proprio se li vedete l'espressione è preoccupatissimo e lui in realtà sta cercando di insegnargli a dare delle risposte che possono aiutarlo quindi dice guarda ti faccio e fa vedere che se si ferma lui si ferma se lui rimane fermo lui si ferma ma il cucciolo è preoccupato e scappa adesso è bellissimo perché il cucciolo è troppo spaventato allora lui in realtà dall'odore si accorge che il cucciolo è preoccupato vedete adesso che annusa e gli lascia un po' di spazio e quello che succede dopo vado avanti quello che succede dopo è che eccolo è il cucciolo a uscire ad andare da lui e qua vedete c'è qualcosa che secondo me è troppo bello perché si è resta un po' preoccupata ancora però guardate il tempo cioè lui soltanto standogli vicino in questo momento lo sta supportando emotivamente cioè gli sta dicendo che quello che a cui vuole quello che lui sta facendo lì è proprio dargli supporto quindi ora quello che fa per me è bellissimo perché anche sapete quando i bambini cominciano a riconoscere le parti del corpo guardando per esempio i genitori o gli altri fratelli è lo stesso lo stesso discorso cioè adesso quello che succede qua ando un po' avanti e che loro per esempio marcano con con le zampe no allora adesso piano piano anche lui dà la stessa risposta dei fratelli perché si sente più a suo agio cioè in questo momento lui si sente più rilassato perché suo fratello non sta pensando a quella che è la risposta che lui gli deve dare ma sta pensando a come a come si sente cioè è più un discorso emotivo piuttosto che il comportamento in sé cioè che se fosse arrivato un cane che ce l'avesse spanciato all'aria non avrebbe ottenuto niente proprio pensate a come il cucciolo si sente mentre mentre fa questo è lui che sceglie di andare dal fratello è lui che si sente più rilassato e adesso se vedete proprio si annusa le zampe loro marcano molto con le zampe anche no quindi se vedete qua lui capisce che questo odore che ha lui sulle zampe è lo stesso odore che ha il fratello sulle zampe se vedete proprio se lo annusa è annusa di nuovo e capisce quelle che sono poi le zone del suo corpo che lui userà per marcare e tutto questo c'è legato proprio ai legami familiari fortissimi che questi cani creano vivendo insieme come famiglie sul territorio e qua vedete che addirittura da prima che scappava dal fratello adesso se vedete guardate lui c'è già nove mesi non mi ricordo quanto c'aveva qua però sicuramente meno di un anno ed è molto più maturo di molti cani che noi abbiamo a casa perché vive vive come un cane cioè vive con la sua famiglia vive esperienze vive vive tutti i giorni non vede un guinzaglio mai e qua guardate che è il cucciolo il fratellino che vuole seguirlo adesso è lui che vuole andare da lui e lui lo rimprova e dice no mori mani là e lui dice va bene va bene secondo me è troppo bello cioè vedete quanta completezza c'è non soltanto nella comunicazione ma nei legami sociali che poi sono le parti che io vedo molto in difficoltà cioè il lato emotivo dei legami sociali sono proprio le parti che io vedo molto in difficoltà nei nostri cani di casa diciamo da educatore quanto sono aumentati i problemi comportamentali negli ultimi anni cioè quante richieste ne facciamo sul cane quanto comunque noi andiamo dietro i cani e abbiamo aspettative sui cani mentre non stiamo là semplicemente a a farli vivere e basta quello che ci insegnano questi cani è proprio questo ora io voglio farvi vedere vabbè intanto una cosa un po' di anni fa stavo ancora su facebook e poi ho trovato questa foto qualche giorno dopo dei video che avete visto prima cioè questi sono i cuccioli che stavano sul territorio che sono stati presi da dei volontari che li hanno trovati dispersi da soli lì perché è normale perché la mamma va a cercare cibo poi torna e io se volete posso farvi vedere proprio tantissimi video dopo che questi cuccioli sono stati là sono stati presi e vi posso assicurare che la mamma anche i primi giorni stava proprio nervosissima e li cercava e quello che voglio farvi vedere sono le espressioni cioè voi li avete visti con con la mamma con la loro famiglia come erano guardate qui come sono spaventati perché noi chiaramente che cosa pensiamo che quello di cui loro hanno bisogno sono appena stati rapiti dagli alieni non sono socializzati con le persone però quello di cui hanno bisogno è mangiare il riso con i croccantini è quello sicuramente la cosa fondamentale è l'ossessione di tutti i volontari devono mangiare cioè non avete idea e anche un'altra cosa vedete la differenza delle espressioni del volto tra il cucciolo che è terrorizzato e lei che si fa la foto vuoi far adottare il cane va bu ma che cazzo c'entri tu nella foto questo è il discorso perché poi andate a vedere quelle che sono le motivazioni quelle che sono le motivazioni per cui uno interviene perché se io voglio intervenire per aiutare il cane non ho nessun bisogno di far sapere che io sto aiutando quel cane o di far vedere che sono io che sto aiutando quel cane perché questo è il discorso perché come è vero che da un lato c'è tutto quel marcio legato alla mafia a chi si scispecula e a chi dai canini prende un sacco di profitti poi c'è l'altro discorso che comunque di tutte quelle persone che agiscono sul volontariato soltanto per fini personali che comunque il benessere dei cani non lo fanno assolutamente quindi è un discorso molto complesso volevo farvi vedere anche la differenza tra cuccioli di cani randaggi che sono socializzati con le persone e sono questi e vedete chiaramente la loro reazione come invece voglio farvi vedere cuccioli che con le persone non sono socializzati e la loro reazione all'avvicinarsi è completamente diversa ecco cioè questi cani qua quando vedono arrivare le persone hanno questa reazione non quella che avete visto prima il che significa che su cani così piccoli abbiamo per me una percentuale del 30-40% che possano integrarsi in una vita in città altrimenti possono possono creare problemi possono legarsi alla persona che le adotta però poi avere un sacco di problemi con le altre persone e se vedete la loro reazione quando una persona si avvicina è questa quindi potete vedere due tipi di reazione che sono completamente diverse e se prendete poi dei cuccioli di questo tipo di 5 mesi e li portate in canile state sicuri che il 99% delle volte passeranno la loro vita dentro un box voglio farvi vedere poi in canile significa che avrete dei cani che reagiscono in questo modo e passano 15 anni così cioè dove tutti i giorni vivono il giorno peggiore della loro vita per tutti i giorni perché questi in un canile anche che ha soltanto 200 cani cioè chiaramente questi sono quelli che non verranno mai adottati nessuno si andrà a prendere un cane che non può neanche avvicinare e in realtà quelli sono quelli più adottabili nel senso dal mio punto di vista questo tipo di cani qua è quello che andrebbe tolto più velocemente dai canili e andrebbe adottato da persone che magari hanno un terreno un giardino una villa con dello spazio magari con un altro cane perché fanno molto riferimento sui cani piuttosto che sulle persone e sapere che non avrai il cane che gli metti il guinzaglio e lo porti a passeggio però chiaramente piuttosto che andare a prendere magari un cane dalla strada che sta benissimo ti vai a prendere un cane di quelli allora si che fai veramente del bene se vogliamo pensarlo in quest'ottica perché andare a togliere un cane dalla strada che sta benissimo e poi guardate guardate questo video per esempio cioè questi sono sempre cani che non sono socializzati con le persone cioè pensate proprio in questo sottofondo qua vedete un cane in ogni angolo cioè non lo so rispetto a quei cani che avete visto prima che vivevano che vivevano per strada sicuramente io penso che cioè farli vivere così è assolutamente è assurdo cioè ve ne posso far vedere tanti per farvi diventare tristi perché poi la rete è assai brutta però questo è cioè la realtà di questi nei canili del sud cani che vengono accalappiati da cuccioli perché fortunatamente questi cani poi quando sono adulti è anche difficile prenderli quindi generalmente sono anche cani che danno poco fastidio perché sono anche cani che vivono più in periferia poi ci sono dei casi un po' che sono delle vie di mezzo dove trovate dei cani che vivono più vicino alle persone però non si fanno avvicinare e quelli sono poi magari quelli che possono essere più facilmente catturati un altro aspetto fondamentale proprio dell'approccio che le persone hanno è per esempio il discorso della gestione del cibo dare del cibo a dei cani è secondo me uno dei problemi che noi creiamo nel creare disequilibrio all'interno perché il punto è che tra l'uomo e il cane c'è sempre stato equilibrio il disequilibrio l'abbiamo creato noi perché abbiamo cominciato a parte il discorso delle società delle strade delle macchine e via dicendo ma anche l'attenzione che noi mettiamo sul cane a livelli eccessivi nel senso che pure il discorso che sembra che per alcuni dare da mangiare è diventata una missione dare da bere cioè secondo te è un randaggio se non vai tu a portargli l'acqua non sa dove andare a bere cioè no onestamente cioè il discorso dice ma a me me l'ha detto Emma Virginia America ma tu conosci Emma Virginia America chi cazzo è Emma Virginia America cioè il discorso è che ci sono delle cose che uno dice e si fa il bassa parola da una parte all'altra e diventano delle leggi per cui no tu devi dare da mangiare a quei cani gli devi dare da bere allora andate provate a seguirvi le piste dei selvatici senza cacali senza rompere le scatole però andate a vedere ci sono delle deviazioni bellissime dove per esempio loro seguendo un tracciato arrivano sotto una quercia e sotto quella quercia ci sono delle radici che formano una conca dove è pieno d'acqua e loro proprio vedete la pista che devia va su questa quercia e poi ritorna sul tragitto e loro la vanno a bere comunque ci sono un sacco di pietre cave poi da noi in Puglia è tutto terreno carsico quindi sono pieno pieno di pietre cave che raccolgono acqua eccetera ma al di là di questo comunque dove c'è l'uomo c'è acqua e quindi non è che è la mia necessità di sentirmi necessario per dire che io faccio questa cosa però questa cosa adesso anche con i social si ha un riverbero importantissimo perché questa cosa che cosa porta porta al fatto che io alla fine faccio vedere che è veramente un disastro perché io posso scrivere tutto quello che faccio che faccio capire che c'è bisogno di me che è una situazione tragica invece no cioè più le persone vivono questa realtà più si rendono conto in realtà di che cos'è cioè non c'è per me la gestione del randagismo è c'è c'è già ci sono delle città ci sono dei paesi ci sono delle situazioni in cui la situazione è assolutamente gestita nella tutela e nel benessere dei cani dove i cani che sono sul territorio sono in equilibrio quando c'è un disequilibrio si interviene e si riassesta l'equilibrio la tendenza è a svuotare il canile il problema è per me proprio a livello culturale cioè cominciare a creare un cambiamento culturale perché le persone passano a pensare che non c'è in realtà tutto questo allarmismo non c'è sì ci sono dei cani che stanno male allora li si prende li si cura e si trova una sistemazione ci sono dei cani che possono creare problemi e la maggior parte il 99% dei casi non sono randaggi e non sono selvati ci sono un genere cani che sono stati abbandonati perché è diverso un cane che è stato abbandonato da un cane che vive in equilibrio da anni sul territorio o da semiselvatici che stanno da generazioni su quel territorio i cuccioli che avete visto prima fanno parte di un branco che sta là da prima del 2007 sono più di 15 aspetta sono tutti questi anni che lo seguo io che lo vedo io ma quello stava già da prima cioè non lo so da quanto sta quel branco e la cosa bella è che c'è proprio una trasmissione culturale cioè se voi vedete le piste i percorsi che questi cani usano sono gli stessi percorsi che usavano le stesse piste che usavano nel 2007 cani che adesso non ci stanno più quindi c'è proprio una trasmissione culturale sono dei gruppi familiari che vivono serenamente sul territorio ora è chiaro che l'equilibrio si può rompere perché c'è per esempio vi faccio un esempio pratico ci sono tre cani randaggi che vivono lì uno di questi cani è un po' più reattivo allora c'è la signora che va ad abitare proprio in questa strada quei cani stanno là da tre anni e non creano problemi la signora va ad abitare là e gli dà da mangiare sotto casa sotto casa sua questo cane che è più reattivo incomincia ad abbagliare alle persone che si avvicinano alla porta della signora ok il cane non è un problema cioè il cane non è aggressivo è solo reattivo cioè significa che se voi vi girate e lo guardate negli occhi il cane se ne è già andato perché poi questo è anche il discorso che prima cioè i nostri nonni sapevano benissimo qual era il cane che poteva essere un problema e quando un cane pure ti poteva abbagliare diecimila volte ma non era assolutamente un problema è che adesso noi non siamo più abituati perché siamo abituati soltanto a vedere il cane che va al guinzale che gli dici seduto e si siede a terra e si siede poi ha abbagliato oh madonna il cane ha abbagliato cioè che sono proprio cose sembra quasi che deve essere tutto ma è controllato cioè deve essere tutto uguale tutto prevedibile non ci dobbiamo mettere in discussione non ci dobbiamo chiedere che cosa il cane sta dicendo che cosa il cane vuole allora se quel cane è più reattivo degli altri e la signora gli va a dare da mangiare là il cane comincia ad abbagliare contro le persone che passano in quella strada il vicino comincia a lamentarsi perché dice io torno a casa la sera e quel cane mi aggredisce va bene allora ma non è la colpa del vicino che non sa vedere che quel cane non fa niente perché il problema è che adesso è un equilibrio diverso rispetto a 50 anni fa 60 anni fa che dobbiamo aiutare a mantenere per tutelare questi cani allora quello che succede è che tu dici alla signora non ti dico non gli dare da mangiare ma non gli dare da mangiare qua dagli da mangiare 100 metri più giù che c'è la campagna e il cane si ferma là perché tanto se tu vuoi che questo cane stia bene e ti dico che quel cane i problemi non te ne crea non crea i problemi a nessuno se gli sposti semplicemente la ciotola d'acqua a 100 metri più avanti il punto è che alla signora gli fa troppo piacere il fatto che il cane va vicino a lei che la saluta è che la difende dalle altre persone per far vedere che lei è amica degli animali e gli altri sono i cattivi allora se tu vai a parlare con queste persone la persona che dice il cane mi ha aggredito tu gli puoi far vedere pure guarda che il cane non è aggressivo e dice a me non mi interessa cioè io ho paura la sera ed è giusto è legittimo il punto che dici va bene ma se il cane si sposta là e non ti abbaglia più la sera a te ci sono problemi che rimane qua il cane piuttosto che lo portiamo in canile e la persona ti dice va bene no se il cane si sposta là non c'è problema ma la signora continua a dargli da mangiare là e continua a dargli da mangiare là e il cane continua a reagire su quella persona quindi viene chiamata là viene fatta la denuncia chiamata là e il cane va a finire in canile e il cane va a finire in canile la signora non si fa vedere più in canile non è che viene si prende il cane e lo fa uscire dal canile quindi quel cane che poi magari non trova più adozione che poteva vivere serenamente per stare non dava fastidio a nessuno si ritrova a vivere dieci anni di canile perché la signora voleva fare l'amica degli animali ma per me è più amico degli animali quello che ha fatto la denuncia perché quello almeno nel momento in cui l'ha segnalato quel cane era disposto ad un compromesso per mantenere l'equilibrio questo è il discorso è per questo che dico ogni volta che noi ci troviamo in una situazione in cui bisogna intervenire sul discorso del randaggio è una questione che varia da situazione a situazione ed è sempre diversa è sempre differente quattro minuti sono quattro minuti è più di quello che pensavo quindi adesso vi faccio vedere soltanto una cosa voglio farvi vedere adesso una cagna che era randaggia che è stata presa e curata perché allora questo cane onestamente l'ho preso io dalla strada perché stava male e il giorno che l'ho preso è stato proprio brutto perché il cane chiaramente non era selvatico non è un cane selvatico è un cane randaggio però non si fida delle persone quindi non si faceva avvicinare e gli ho proprio teso un tranello nel senso che vabbè il cane aveva le erlichiosi e quindi quando lo abbiamo preso io sono uscito da dietro la macchina l'ho braccato lei non se l'aspettava nel momento in cui l'ho presa lei si è spaventata ma di brutto la cosa più brutta è che là di fronte c'era suo marito il suo compagno che la guardava ed era proprio era bruttissimo perché era uno sguardo impotente era tradire proprio io non posso fare niente e quando è stata portata in canile poi è stata curata io voglio farvi vedere il giorno che è stata liberata ecco guardate quando si saluta col marito è il marito che dice mo bellissimo si salutano però lei dice mo ce ne dobbiamo andare da qua sì ciao ciao l'amore tutto quello che vuoi ma mo ce ne dobbiamo andare cioè il discorso è che esatto quello che vedete che proprio alcuni volontari pensano vabbè ma è stata male manteniamo teniamola in canile cioè la teniamo protetta al caldo la teniamo con le coperte li diamo da mangiare non è un cane che è anziana sì però ha vissuto anche un'altra cosa cioè molto spesso si pensa che i cani vivono pochissimo da andaggi cioè l'anno scorso è stata soppressa una canina che aveva 20 anni cioè comunque vi assicuro che la media dei cani che vivono sul territorio è altissima perché cioè i cani sono fatti per quello cioè per vivere nei villaggi quindi il discorso è che adesso io quello che voglio farvi vedere in questo piccolo video quello che vedete è che proprio in realtà Desi non è che si gira perché dice io voglio tornare con voi viene che vuole no dice questa è casa mia finalmente mi avete riportato e se ne va cioè lei è contenta perché quella è la sua vita allora quello che volevo dire e concludere è nel momento in cui noi pensiamo attraverso il nostro modo di pensare umano che stiamo facendo una cosa che fa bene al cane una cosa che fa bene stiamo stiamo entrando in realtà a prendere una decisione forte su qualcosa che non ci compiete almeno la cosa che dovremmo fare è chiederci a parte sto facendo la cosa giusta ma soprattutto chiedere chiedere al cane se è quello che lui sceglierebbe per se stesso perché molto spesso l'azione del volontario è andare a testa bassa e prendere e decidere sapere già ancora prima che cosa è giusto cosa è sbagliato ma la cosa che non si fa è guardare un attimo negli occhi quel cane e chiedere tu che cosa vuoi quale sarebbe stata la tua scelta in questa situazione e con questo concludo e vi ringrazio vi ringraziamo Michele che anche con una buona dose e vena poetica ci ha fatto capire che il volontariato va fatto con intelligenza tutte le persone che vogliono agire per il benessere degli animali troppo spesso nascondono i loro problemi è normale il fatto che sappiamo che molti fanno accumulo seriale di animali molte persone i cani e i gatti soprattutto che sono più malleabili dei cani alcune volte anche perché li chiudi in casa hanno logicamente dei grossissimi problemi ripeto volontariato soprattutto nel nostro campo va fatto con intelligenza non dobbiamo umanizzare troppo i nostri amici a quattro zampe passo ora la parola a Luca Spennacchio che nel frattempo sta cercando di far funzionare i suoi potenti mezzi tecnologici istruttore cinofilo e anche autore del libro Canile 3.0 a te la parola Luca grazie io devo stare in piedi perché la mamma mi ha fatto passo no perché proprio non riesco a parlare seduto è una roba che guido seduto faccio un sacco di cose viaggio in treno ma devo stare in piedi quando parlo allora buonasera a tutti sono molto felice di essere qui questa sera allora sono qui per questo motivo sono stato invitato in quanto autore di un libro che parla di di Canile ma non vorrei parlarvi del libro di questo libro vorrei fare un intervento un po' particolare prendendo spunto da alcune cose che sono state dette evitando ovviamente di fare delle ripetizioni ma vi parlerò di una questione allora intanto la realtà che è stata descritta di cui stiamo parlando questa sera è molto diversa dalla realtà che esiste nella zona nella quale vivo io io vivo tra Bergamo e Milano dove i cani sul territorio non esistono non perché la gente non abbandoni i cani soltanto che li porta direttamente in Canile ora io riallacciandomi a quanto ha detto Michele all'inizio della presentazione ho scritto proprio nel libro c'è una quarta di copertina che se adesso la trovo ve la faccio vedere che in teoria dovrei fare così che non la leggerete ma ok sì è una frase che mi è venuta così molti anni fa al primo verso Barco Canile che era una conferenza che facevo e abbiamo fatto anche insieme nel 2012 io e Michele sui sul randagismo ma soprattutto nel mio caso sulla gestione e sul lavoro del canile e questa frase dice che il canile che sogno è il canile che non ha la necessità di esistere ma questo canile esiste in un mondo che non c'è il nostro compito è quello di costruire quel mondo partendo proprio dal canile che oggi c'è nel senso il discorso è questo potete fare il canile più bello del mondo rose, fiori fatto con tutti i finanziamenti milionari che vi possono all'improvviso dare molto probabilmente questa cosa comunque non intaccherà minimamente il problema del randagismo dell'abbandono eccetera e soprattutto sarà molto difficile che renderà veramente felici dei cani il cane è un animale che ha certe caratteristiche è un animale che vive con l'uomo intorno all'uomo da parecchie migliaia di anni ancora qua si sta studiando per capire bene da quando e dove eccetera ed è un animale che ha caratteristiche etologiche che come avete visto lo rendono atto cioè l'evoluzione la storia evolutiva di questa specie lo rende capace di vivere con o senza l'uomo ovviamente essendo animali che hanno avuto una storia molto lunga con l'uomo hanno in maniera unica sul pianeta rispetto a tutti gli altri animali delle caratteristiche che nel momento in cui hanno la possibilità di conoscere l'uomo in fasi particolarmente sensibili sono in grado di considerare l'uomo parte della sua famiglia avete visto l'esempio di due cucciolate dove sono avvenuti procedimenti differenti una cucciolata in cui l'uomo non è conosciuto quindi si dice in termini tecnici che i soggetti non sono socializzati all'uomo e le reazioni di paura dovete capire che non sono reazioni che partono da dentro e mentre i cuccioli socializzati che accettano anche la vicinanza nelle due maniere dell'uomo noi tendiamo invece a pensare che i cani fondamentalmente siano animali stupidi che hanno assolutamente bisogno della baglia per imparare qualunque cosa ma perché ci basiamo su come noi cresciamo i nostri cani e noi cresciamo i nostri cani stupidi anche i miei cani eh Caos Brugale eccetera i miei cani non sanno attraversare la strada da soli i miei cani bei Caos sì però generalmente generalmente no perché le cose si apprendono non grazie a degli ordini che ti vengono dati ma ci sono dei processi di apprendimento avete visto quel cucciolo come ha preso una cosa meravigliosa della vita e immaginatevi quel cucciolo che si annusava le zampe si è fatto una domanda ha annusato le zampe del fratello maggiore che per lui è un idolo quell'altro aveva solo nove mesi i nostri cani ha nove mesi c'è gente che li imbocca ma un cane ha nove mesi che ha vissuto in quel modo non ha nulla a che fare con il nostro cane che abbiamo a casa ma neanche di cinque anni e quel cucciolo si annusa le zampe scopre quell'odore anche nell'altro cane nel fratello che è il suo idolo nella sua piccola tana lui c'ha il poster del fratello con l'impronta perché gli adulti per i piccoli sono dei miti come lo sono per noi quando siamo piccoli il nostro padre la nostra madre li guardiamo li osserviamo li imitiamo quante volte le bambine si vestono si mettono le scarpe si truccano vengono fuori dei pasticci incredibili i bambini maschietti rischiano di tagliarsi la gola con la lametta da barba perché vedono il papà che fa la barba l'apprendimento ha dei processi richiede delle esperienze delle condizioni perché avvengono ci vogliono dei tempi ma tutte queste cose ogni specie le ha proprie altrimenti non ci sarebbe oggi ora qui il punto è secondo me e non voglio dire sono mani che mi da fastidio tediarmi troppo però il punto è onestamente serenamente abbiamo visto che la questione randagismo e canili è estremamente articolata e problematica ci sono le leggi ma non vengono fatte rispettare da una legge buona vengono fuori mille possibilità di lucrare e di speculare sulla vita degli altri brave persone che impazziscono di dolore perché vivere in certe condizioni è veramente intollerabile dove si vede il maltrattamento esplicito e condiviso addirittura da chi ti sta vicino e tu non riesci a sopportarlo perché anche tu hai un animo io sono stato in alcuni posti dove devi guidare a due all'ora perché ogni tre metri potrebbe finirti un cane sotto la macchina ma quei cani sono quei cani che cani sono quelli quelli che fino a ieri hanno vissuto legato a una catena chiusi su un balcone o anche in un appartamento e poi presi e messi in mezzo alla strada non sanno sopravvivere è come se prendeste vostro figlio di cinque anni lo piantate nella foresta amazzonica e ve ne andate se non trovo qualcuno che lo aiuta a sopravvivere dura veramente poco quindi abbiamo visto che la situazione è veramente complicata si può parlare di questa situazione a tutti i livelli si può parlare di etologia del cane ma si può parlare di politica internazionale si può parlare di finanziamenti pubblici si può parlare della spesa pubblica ma si può parlare anche di cultura di un paese però attenzione secondo me onestamente e serenamente ognuno di voi ognuno di noi si deve sedere e porsi una domanda e la domanda è io sono veramente interessato al benessere dei cani ma veramente però perché essere interessati a qualcosa avere la passione di qualcosa implica naturalmente l'acquisizione di conoscenze cioè se io adesso vi dicessi io sono appassionato di cinema e voi mi dite ma davvero spennacchi sono appassionato di cinema non lo sapevo ma che regista ti piace per esempio basta per esempio c'era un ufo e poi c'erano delle persone ha fatto anche altri film vabbè se non ti ricordi neanche un regista un attore che ti piace un attore che segui non so se quello è più falso quello pelato c'è quello pelato che in un film era grosso però non era vero il tatuaggio glielo hanno tolto perché in un altro film non ce l'aveva però era sempre pelato che ha fatto quella storia che lui con i bambini insomma non sei neanche un attore ti viene in mente dai segui quello con la F Fredri Bobbo non mi ricordo capite che se io vi ho detto che sono appassionato di cinema voi un minimo di conoscenza del cinema come mondo come arte come comunicazione come messaggio come quello che vi pare un minimo ve l'ho aspettata da me è un conto di andare al cinema vado mi siedo pago un biglietto vedo un film mi piace non mi piace è un conto di essere appassionati di qualcosa, la passione implica naturalmente la riflessione, la conoscenza, non esiste un appassionato di qualcosa che non sa nulla della cosa di cui è appassionato, no, mi sembra proprio, ma il punto è che se io vi dicessi che il cane è molto diverso degli esseri umani, cioè l'etogramma del cane, il modo del cane di vedere il mondo va appreso perché? Semplicemente perché molte cose sono controintuitive o molto spesso noi sovrapponiamo i nostri bisogni riflettendoli su un altro, lo facciamo anche con gli esseri umani, sconvinti di pensare a quello che stanno pensando gli altri, di decidere per gli altri qual è il loro bene, però con gli esseri umani abbiamo un vantaggio, quantomeno parliamo la stessa lingua, attenzione che non è sempre la condizione sino qua, no, non sempre sentirti dire delle cose, è sufficiente perché tu le apprenda. Vi faccio un esempio molto banale, prima Michele ha rimarcato più volte per esempio la questione alimentare. Vi faccio un esempio per farvi riflettere su questa questione, proprio perché non è a caso la questione dell'alimentazione. a Milano, vi parlo di lì perché probabilmente ci saranno sicuramente anche qua, c'è un parco, un centro a Milano, questo parco ha alberi, ghiaia, collinette, erbetta, laghetti. Nei laghetti ci sono solitamente paperelle, trote, pesci, insomma di tutti i tipi, adesso le carpe coi tutte colorate, ci sono animali di diverse specie e c'è sempre un cartello. Cosa c'è scritto sul cartello? Non dare da mangiare gli animali. Perché? C'è un cartello in mezzo a un parco che dice non date da mangiare gli animali? Perché probabilmente invece è necessario mettere un cartello che vieti un comportamento, perché altrimenti, Homo sapiens sapiens, quando è davanti a un'altra specie animale, la prima roba che gli passa per la testa è di dargli da mangiare. È un impulso molto forte, ci sono delle ragioni perché è così. Una delle ragioni evidenziate è per il fatto che noi siamo mammiferi, ovviamente sapete anche voi che siamo mammiferi, ma siamo mammiferi un po' particolari. I nostri cuccioli nascono particolarmente inetti. Cioè, cosa significa? Che i nostri cuccioli, i nostri piccoli bambini hanno bisogno di un tempo lunghissimo nel quale avere tutte le cure parentali possibili e immaginabili per diventare adulti. La fitness per gli esseri umani è far raggiungere la tua prole almeno i 12-13 anni, dove diventano potenzialmente riproduttivi. Lì non servi più, in teoria, cioè quando arrivi lì. Quindi, se io devo prendermi cura, nutrire, proteggere, educare, seguire, fare, lettere, testamento, il mio cucciolo per dieci anni, capite che la mia storia evolutiva, evoluzionistica, mi ha fornito delle pulsioni necessarie per non stufarti dopo due mesi. Perché se io mi stufassi dopo due mesi del bambino, la nostra specie sarebbe, non saremmo neanche qua a discutere, sarebbe già finita un sacco di tempo fa. Ora, questa pulsione molto forte a prestare delle cure parentali, insieme a tanti altri comportamenti dell'homo sapiens sapiens, questa etologia, che cosa comporta questa pulsione fortissima? Che la pulsione non si esprime solo e soltanto quando il referente è quello per cui la pulsione si è sviluppata, la pulsione si esprime ogni qual volta può farlo. Quindi, tutte le volte che tu, qual è la cosa più semplice, qual è la cura parentale più immediata che ti può suscitare da dentro un comportamento, se non quella di nutrire qualcun altro, quando ti trovi di fronte a chiunque e vuoi entrare in relazione con questo chiunque, devi stare attento ai bambini, i bambini davanti non me lo ingolfare dei biscotti che quella sera non mangia più? E io? Ma la nonna non è che dice che il bambino è deperito, ha fame e quindi il poverino deve essere nutrito a forza dalla nonna, no? È un bisogno della nonna. Ci vuole quello che si chiama autocontrollo. Ma questo autocontrollo, perché tutti noi abbiamo questa pulsione, quando vedi il cucciolino è la prima roba che ti viene in mente, vado a prendere in braccio. Ferma. La nostra pulsione deve essere educata. Cioè io devo sapere, quando smettere di rincoglionire mio figlio di biscotti, devo sapere cosa è meglio per lui, che esperienza deve fare e quella mamma che guardava il suo cucciolo in difficoltà e lo stava osservando, anche lei aveva l'impulso di dire è la mamma, è quello il cucciolo, ma lei sapeva che quella situazione richiedeva che il cucciolo facesse un'esperienza. Se l'andava ad aiutare non l'avrebbe fatta con l'esperienza e il cucciolo non avrebbe acquisito qualcosa di molto importante per lui. Ora noi questa capacità di autocontrollo l'abbiamo persa generalmente nella vita, perché adesso non stiamo qua a fare discorsi troppo strani, però soprattutto con i nostri cani. Alle volte quando io lavoro con dei clienti che hanno il loro cane, poniamo una situazione problematica, perché io voglio vedere quali sono le competenze del cane e la capacità del cane di riflettere su un problema, ma dopo un secondo che il cane è davanti al problema e ci sta solo pensando, se non mettono le mani in mezzo per aiutare il cane non riescono a resistere pensando di fare del bene al cane e lo stanno distruggendo. Non consentono a una creatura di vivere. Il punto è che è necessario che se la risposta è io ho tutto questo impegno che sto mettendo, lo voglio mettere perché è l'obiettivo, è quello del bene dei cani. Mi devo chiedere prima di tutto qual è il bene dei cani, a prescindere da quello che penso io. Ed è necessario che persone esperte che conoscano i cani, che sappiano farci vedere delle cose, che sappiano mettere in luce determinate cose, che ci sappiano trasmettere delle esperienze. Diventino i nostri referenti, non possiamo inventarci le cose. Se io volessi, come vi ho detto, nella mia realtà i cani di quartiere o comunque sul territorio l'ho vissuta solo quando ero molto piccolo, perché quando ero piccolo io, che si era te dato, ovviamente prima della 281 eccetera eccetera, i proprietari di cani, a parte che erano tutti i contadini vendi cani erano in giro da soli, cioè liberi. In più i proprietari che si erano spostati dal lavoro della campagna al lavoro nelle fabbriche e quindi avevano la casettina in paese, i loro cani di giorno, quando loro andavano a lavoro, lo lasciavano in giro. Quindi noi ragazzini che giocavamo per strada in ciabatte eravamo seguiti dal lungolo di cani, dipende se andavamo dal panitiera a prendere la focaccia, erano tutti lì. Quindi questa esperienza io l'ho vissuta quando ero piccolo, ma se io dovessi gestire la situazione del randagismo nel sud, io andrei a casa di Michele e gli direi, adesso io vengo con te per un mese, due mesi, tre mesi, mi fai conoscere questi cani perché lui lo fa da tantissimi anni, ha una montagna di video su queste cose, cose che io non ho. Non pensate che i cani sono tutti uguali, quindi se tu hai imparato una cosa la puoi riportare su qualunque cane, non è così. I cani sono individui, dobbiamo cominciare a capire che sono degli individui. non sono una massa informe e omogenea, sono individui che stanno nel mondo in un modo diverso. Per imparare a vedere le differenze e a capire i bisogni è necessario allenarsi, non è una roba che sappiamo naturalmente, perché l'abbiamo persa, perché viviamo in un mondo sterile, esattamente come voi canili che probabilmente fra un poco faremo. Cioè, io nel mio libro Canile 3.0 parlo in modo particolare del lavoro di un canile che favorisce le adozioni, perché per me le problematiche sono due. Uno, non sono più di due, però sono tre aspetti. Uno, diminuire il tasso di abbandoni, gestire questa cosa, perché è un'emorragia continua. L'altro è migliorare le competenze di chi lavora nelle strutture o chi, io parlo di strutture perché nel nord ci sono strutture, non ci sono cani in giro. E tre, aumentare l'ingresso dei cani nelle famiglie, il benessere di un cane, non è stare in un bel canile, non è quello, ma neanche nella villa col giardino, è stare con la persona giusta, con le persone giuste, con la famiglia giusta, che potrebbe essere una famiglia di cani e non di persone, nel caso appunto dei cani di cui ci parlava Michele. Ma io, siccome devo stringere tantissimo, giusto? Io volevo fare un discorso, spero di essere abbastanza veloce per farlo, perché c'è una cosa che vorrei dire, porca miseria, adesso sono... ok, c'è una cosa che vorrei dire che è questa. Allora, immagino che le persone che sono venute qui stasera abbiano tutte a che fare con i cani, in un modo o nell'altro in un modo particolare, probabilmente con il mondo dei canili o dei cani risabattichiti o randaggio sul territorio. Voi molto probabilmente, come me, siete nella vostra famiglia, quindi i vostri genitori, parenti, amici, voi sarete quelli dei cani, sarete indicati come quelli dei cani, no? Quelli che puzzano sempre dei cani, hanno i peli addosso e se non... la domenica sono tutti a tavola, non arrivano mai, perché dov'è? È in canile, doveva chi sia. Poi quando arriva, vatti subito a lavare, buttati via dai fuoco ai vestiti, di solito questa è una cosa. Io immagino che anche a voi, se siete tollerati nella famiglia, alle volte siete anche appoggiati o spronati, non sempre, alle volte siete tollerati ma incompresi, alle volte siete boicottati, quindi poi ognuno di voi farà le scelte nella sua vita. Però sicuramente alla maggior parte di voi c'è stato un giorno che qualcuno vi ha detto, ma con tutti i problemi che ci sono nel mondo, te con sti cani, hai un po' rotto le scatole, cioè con tutte le problematiche più importanti che ci sono nel mondo, te che stai a perdere, va bene, i cani belli, sì, classico le persone che ti dicono, sì, anche a me piacciono i cani, finché stanno lì, sì, però te insomma stai esagerando un pochino, no? Vi è capitato anche a voi o solo a me? No? Ok, perfetto. Allora io adesso ognuno di voi avrà le sue motivazioni per nutrire la propria passione per i cani o il proprio desiderio di fare la sua opera o insomma quello che è. Io vorrei invece farvi riflettere su un aspetto, che secondo me è una riflessione che mi dà un buon motivo per capire quanto sia importante dedicare energie, che sono denaro, tempo, convinzione ai cani. Adesso parlo di cani. E lo faccio, giuro rapidamente, perché è un po' lunga, parlandovi di due persone che quei cani non c'entrano niente, probabilmente. Uno è Alan Turing, che probabilmente tutti voi conoscete quanto grande matematico, che è praticamente il padre dell'informatica, e l'altro è Philip K. Dick, che è uno scrittore di fantascienza. Due persone che ammiro tantissimo. E cosa c'entrano queste con i cani e il fatto che io vado in canillo? Niente. C'entrano. Turing ha costruito questa macchina qui, il primo computer, era grande come un appartamento in pratica, e serviva per decodificare Enigma, una macchina che i nazisti utilizzavano per comunicare in codice tra di loro. Questa macchina che inventò Turing, il primo computer in assoluto, era praticamente decretò la fine della guerra, quando potevano decifrare i codici dei nazisti. Però Turing è anche famoso per un altro motivo, per il famoso test di Turing. Cosa dice il test di Turing? Il test di Turing dice che, Turing si è chiesto, ma se io mi metto una macchina che fa calcoli molto velocemente, come faccio a sapere se pensa o no? In realtà la stessa domanda, io mi faccio a sapere se le altre persone pensano. Lo deduco, me lo dicono, ma io effettivamente non so neanche quanto penso io. Allora, lui ha fatto questa, gli è venuta questa idea. Io potrò dire ragionevolmente che una macchina pensa quando una persona, adesso questo è il testo, una persona dialogando con lei non capisce se è una macchina o un essere umano, ok? Questo in breve. Lì vedete lo schemino, là c'è l'A, è quello che pone domande e le risposte gli arrivano da B e da C, lui non vede né B né C. Quando lui non capisce più se quello che gli sta dando la risposta è il computer o l'essere umano, si può ragionevolmente dire che la macchina sta compiendo un processo cognitivo simile a quello dell'essere umano. Ovviamente si pensava negli anni 60 che il test di Turing non sarebbe mai stato superato, che benché una macchina potesse essere complessa non avrebbe mai potuto pensare come un essere umano. In realtà il test di Turing dal 2012 è stato superato più e più volte, quindi in realtà adesso attualmente noi, quando non vediamo il nostro interlocutore, non possiamo essere certi del fatto che sia un essere umano o una macchina. Tranquilli che arrivo al punto, eh? Oggi comunichiamo per il 90% del tempo così, cioè attraverso dei device, attraverso delle piattaforme e la maggior parte della comunicazione che noi svolgiamo nell'arco delle 24 ore è attraverso una macchina verso probabilmente altre persone, ok? E questa cosa è diventata dal 2007, pensate che prima del 2007 non esistevano gli smartphone, non esistevano i social network, non esiste, cioè sembra che esistano da sempre, no? Il 2007 è dietro l'angolo, sono diventati vitali, ormai hanno un traffico di miliardi e miliardi di informazioni ogni minuto in pratica e noi abbiamo imparato a comunicare sempre di più così e sempre di meno così. Ora attenzione, vi parla uno che è appassionato di tecnologia, quindi le mie riflessioni non è che... Attenzione! Cosa sta succedendo oggi? Noi parliamo con le macchine e le macchine ci rispondono, sono sempre più intelligenti nel farlo, adesso siamo solo agli inizi, ma dovete immaginarvi che i logaritmi di intelligenza artificiale, gli algoritmi scusate, di intelligenza artificiale, sono gli investimenti miliardari del giorno d'oggi, Google, Apple, Amazon, eccetera, stanno investendo in miliardi perché la ricchezza andrà nell'intelligenza artificiale. Qua ci sono degli esempi, Siri, Cortana e Google Now che sono gli assistenti vocali, tutti ci delle cose e loro fanno delle cose e saranno sempre più intelligenti. Da questo dicembre appena passato è in commercio per la prima volta un visore di realtà virtuale. Cioè in pratica con la Playstation adesso tu non solo puoi fare dei giochi in un mondo virtuale, cioè tu ti metti questo casco, tu sei seduto sul water e puoi immaginarti di essere sul Grand Canyon. Immaginarti, lo vedi, ti giri, lo vedi, lo percepisci, stanno costruendo delle tute che riproducono la sensazione sulla pelle, i rumori, i suoni. Cioè tu vieni immerso in un'altra realtà che non è quella in cui tu sei seduto. Attenzione, perché chi progetta le realtà virtuali le progetta affascinanti, suotenti, fantastiche. Questa cosa si chiama realtà virtuale o VR e anche qua ci sono investimenti miliardari. Attenzione, perché fra meno di 3-4 anni non esisteranno più i monitor dei computer. tu avrai degli occhiali come Google Glass, non so se siete presenti, su quelle lenti si vedranno le immagini che tu si mischieranno alla realtà delle immagini che tu utilizzerai, si chiama realtà aumentata, per fare tutti i lavori che vuoi. Quindi il computer sarà una roba grande così che tieni in tasca e gli occhiali che indossi. È un mondo nuovo e ci sono mille implicazioni in questa cosa, sono già molto avanti. Ecco. Allora, perché ho messo questa foto? Cos'è questa cosa qui? Lo ricordate? Allora, nel 1936, faccio così perché se no non mi ricordo la frase esatta, a Milano fu costruito il primo parco giochi per bambini. Le motivazioni che furono adotte per l'investimento fatto nel 1936, ve le leggo, il parco giochi nelle città moderne, città moderne nel 1936, capito? Guerra mondiale ancora. Nelle città moderne tenta di colmare la carenza di opportunità di gioco libero all'aperto ed è anche una prima importante occasione di socialità al di fuori dalla scuola e di altre attività disciplinate. Cioè nel 1936 hanno capito che i bambini che vengono spostati dalla campagna alla città, a vivere in città, hanno bisogno di fare attività all'aria aperta senza bisogno di avere un adulto di controllo che disciplini tutte le loro attività. 36. Cioè l'ha capito nel 1936. Hanno capito che noi esseri umani siamo una specie fatta in un certo modo e abbiamo bisogno di certe cose. E se adesso pensate dove sono finiti i parchi giochi, capite che cosa sta succedendo. Come mai adesso il parco giochi è dentro nel centro commerciale? Ma se le motivazioni erano quelle? Del 36. E adesso arriviamo a un altro punto. I computer oggi, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale oggi sono in grado di autoapprendere, cioè non sono più programmati. Non c'è un programmatore che dice alla macchina cosa fare. C'è un sistema pensante che è in grado di apprendere da solo, esattamente come noi. Qui c'è uno schema, un articolo di un computer che impara a scrivere come un bambino. Cioè prove d'errore imitando qualcun altro. Peccato che lo fai in un'ora. Noi ci mettiamo un po' di anni ad arrivare ad acquisire la nostra scrittura, la nostra capacità. Io in un'ora ho fatto tutto il processo, ovviamente, perché questo è l'articolo che compare su un'intelligenza artificiale in grado di riconoscere le nostre emozioni e di comportarsi di conseguenza, come vedete lì la fase di Alan Turing che viene richiamato. Questo non ve lo faccio vedere perché non abbiamo tempo. Tenete a mente quanto abbiamo detto. Parliamo probabilmente con delle macchine oppure con degli esseri umani ma non possiamo più distinguerli. Usiamo dei device per parlare con i nostri conspecifici, quindi parliamo sempre di meno così. Stiamo sempre di più immersi nella realtà virtuale. Non vi stupite dei caschetti, eh signori, perché tanto se andate per strada vi fermate, la gente sta così. Che differenza c'è quando starà così? Ci vuole poco e tanto oggi così vanno a finire dai tombini, contro i pali, sotto le macchine, sotto i treni, così, così sarà uguale. E questo passaggio è già avvenuto. Parliamo adesso di signor Philip Dick, scrittore di fantascienza, famoso perché ha scritto una marea di romanzi a un genio. Io lo adoro Philip Dick, vi consiglio di leggere i suoi libri. E scrisse questo libro che si chiama Magli Androidi sognano pecore elettriche che tutti voi conoscerete sicuramente con il nome di Blade Runner. Perché da questo romanzo fu tratto il film Blade Runner, che chi non l'ha visto ha già commesso un peccato mortale come vederlo. Adesso vi spiego perché secondo me è un genio Philip Dick. Cercherò di farlo il più breve tempo possibile. In pratica in pratica, 5 minuti, in pratica Dick cosa dice? Nel film Blade Runner ci sono questi cazzatori di androidi. Gli androidi ci sono, sono delle macchine fatte a forma di uomo, identiche agli uomini, più forti, più intelligenti e che non sono distinguibili dagli altri esseri umani, se non attraverso un test che lui si inventa, un test White Kampf, che praticamente è un test che i cazzatori di androidi devono fare all'altro individuo per capire se l'altro è un essere umano o una macchina. E questo test misura, non so, la pupilla, la pressione del sangue, un sacco di roba e questo gli consente di capire se sto dialogando con una macchina, altrimenti non lo posso capire. Ora, come si svolge il test? Chi, il cazzatore di androidi, pone delle domande e misura le reazioni empatiche dell'altro. Ora, se vi andate a vedere il film o vi leggete il libro, le domande sono tipo, trovi una testugine del deserto rovesciata a pancia all'aria, ma tu decidi di non aiutarla. Ad una cena importante vengono servite ostriche fresche. La prima portata del pranzo è un cane bollito. Hai una vespa sul braccio, cosa fai? Tutte domande così. Cos'hanno in comune le domande? Philip Dick ha capito una cosa, che benché noi potremo costruire macchine perfette, migliori di noi, la cosa che non riusciremo mai a fare è riprodurre l'empatia degli esseri umani nel confronto degli altri animali. Cioè per Dick la differenza tra un uomo e una macchina oggi e in qualunque futuro è la capacità di essere empatico nei confronti delle altre specie animali. E in un mondo che è già presente, nel quale non saprò più chi sono uomini e chi sono macchine, non saprò nemmeno se io sono un uomo o sono una macchina. Chi è quella creatura che ci sta di fianco da sempre, che non potrà mai essere ingannato da una macchina come invece noi sì? Il motivo per cui noi ci dobbiamo impegnare tanto per i cani è perché loro hanno molte più cose da dirci sul mondo di quante noi possiamo dirne a loro. Il mio cane è quello che quando io rientro mille volte a casa è felice di vedermi, ma è felice come io probabilmente, non sono più da un sacco di tempo e lui è felice profondamente, senza mentire, ogni giorno, venti volte al giorno. Secondo voi questa sua banale capacità, che io essere umano superintelligente non riesco più a emulare? Faccio veramente molta fatica a fare. Secondo voi in che stato ci pone? Pone me, me, insegnante di lui. Quando noi capiremo questa cosa, capiremo che aiutare, cambiare questa situazione, aiutare i cani è salvare la nostra specie. Loro ci dicono ogni giorno come dovremmo vivere quella mamma che con i cuccioli ha tutto il tempo del mondo per osservarli crescere, per insegnargli delle cose. Mettiamoci noi nei panni, cosa facciamo noi? Negli ultimi dieci anni, no, quindici, sono fioriti gli educatori cinofili, gli psicologi per i cani e gli psicofarmaci per i bambini. Sono tutti perattivi, per sensibili, deficit dell'apprendimento, assia della separazione. Cani e bambini, ma come mai? Stanno nascendo cani e bambini sbagliati? Secondo me studiare il cane, osservare il cane, dare da mangiare a questa passione nei confronti di un'altra specie, ci può far tornare sui nostri passi e capire che ci sono cose che loro ci dimostrano tutti i giorni, che sono le cose importanti anche per noi. Non sono le meno importanti, sono quelle che forse cerchiamo di sorrogare, di inseguire per tutta la vita e loro lo fanno tutti i giorni. E che diritto abbiamo noi di metterli in prigione per questo? Forse perché siamo invidiosi di loro? O forse perché ci rendiamo conto che non riusciamo a non portarli al nostro livello, a schiacciarli al nostro livello? E allora pensiamo che tutte le volte che diamo un bocconcino a un cane, lui solo deve meritare, lui è un lavoro che devi fare, esattamente come io mi devo meritare lo stipendio, facendo un lavoro che magari non mi piace perché ne sono costretto. Quei cani lì fanno quello che gli piace e quello che gli piace è tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere. Dovremmo ricordarci che potrebbe essere così anche per noi. Grazie. Bravo, voglio ringraziare Luca per averci fatto fare questo viaggio nell'informatica soprattutto e personalmente lo ringrazio perché vedo che anche io è un appassionato di prendere sicuramente un libro da leggere e sicuramente qualcosa da assimilare. Io adesso, abbiamo i tempi abbastanza stretti, prima di passarvi la parola per alcune domande e vi chiedo di venire qui perché il microfono fino alla giù non ci arriva, se qualcuno ha delle domande può venire, però volevo fare subito dei ringraziamenti, a parte i quattro relatori, la dottoressa Zaccherini che si è dovuta allontanare perché è chiamata. Volevo ringraziare principalmente i volontari OIPA che da settimana stanno preparando questo evento, ma in particolar modo voglio ringraziare OIPA Roma, complimenti per l'ottima uscita della serata, grazie a tutti quanti. Ora se c'è qualcuno che vuole fare delle domande... No, chi fa domande rimane qui a smontare tutta la sala. Va bene, allora ringrazio di nuovo Claudia, Alessandro, Michele e Luca, ringrazio Rita, Claudio per tutti i volontari dell'OIPA di Roma, ringrazio Alessandra Ferrari che da dietro le quinte organizza tutto quanto e anche Daniela Brunetto che oggi si è resa disponibile per portare a spasso tutti quanti. Se ho dimenticato qualcuno me ne scuso, grazie a tutti quanti, buona serata. E ricordate che l'OIPA ha sempre bisogno anche di voi. Mi raccomando.